Andiamo ora a parlare del primo capitolo del nostro corso, ovvero l'introduzione Gatsby.js, ovvero tutta una parte teorica in cui andiamo effettivamente a parlare degli strumenti che Gatsby ci mette a disposizione. Come si divide questa sezione? Abbiamo prima proprio una spiegazione di come funziona effettivamente Gatsby.js, come si crea un progetto, come funziona il GSX, comunque c'è React insieme a Gatsby, come si posiziona, qual è il suo scopo all'interno di questo framework, come poi si gestisce tutta la parte di routing, la navigazione all'interno di Gatsby e poi l'utilizzo di quelli che sono i layout. Quindi in poche parole, come quello che noi conosciamo effettivamente di React va a posizionarsi all'interno di Gatsby, come si crea il front-end su Gatsby. Poi passeremo a trattare la parte di styling in Gatsby. In che modo possiamo andare a utilizzare effettivamente il CSS e in generale lo styling come i moduli CSS oppure l'utilizzo di styling components all'interno del nostro Gatsby project. Dopodiché passeremo a una delle funzioni core di Gatsby, una sicuramente delle più interessanti, ed è quella dell'utilizzo delle immagini di Gatsby, che vanno ad avere una grande ottimizzazione proprio grazie a questo framework che fa proprio un grande lavoro sulle immagini e cerca di ottimizzarle sia in dimensioni sia nel render di questi elementi. Vedremo quella che è inizialmente la differenza tra un'immagine standard e un'immagine trattata da Gatsby e le soluzioni che ci offre Gatsby per giocare con le nostre immagini, ovvero le immagini statiche e tutti i layout che possono assumere e esploreremo per la prima volta quello che è un plugin di Gatsby. Concluderemo questa parte introduttiva con quella che è il rapporto di Gatsby con l'utilizzo dei dati, delle query, in generale comunque di GraphQL e dello strumento che Gatsby ci mette a disposizione, che è GraphQL, ovvero un'interfaccia che ci permette di andare a semplificare l'utilizzo di GraphQL. Quello che faremo sarà proprio andare a fare le prime nostre query con Gatsby, utilizzare poi il sistema di Source System, quindi il mondo con cui possiamo accedere agli elementi all'interno del nostro progetto e poi passeremo a utilizzare, a vedere nel dettaglio, quelle che sono le diverse opzioni che Gatsby ci offre per andare a realizzare le query, quelle che sono le differenze tra le query statiche e le query presenti sull'epad. E con questo concluderemo la parte introduttiva che ci serve un po' a fare quell'infarinatura generale, consolidare quegli elementi e scoprire le funzioni basilari di Gatsby per poi andare a metterle in pratica, evolverle sicuramente poi dopo portarle a livello successivo per poi andare a costruire dei progetti e delle applicazioni più complesse. Tutto il codice che vedrete scrivermi durante il corso sarà sempre all'interno di delle ripo su Github che vi permetteranno poi di scaricare quello che è sempre il codice finale, quindi vedete scrivere in tutti, durante effettivamente le lezioni, quindi avremo comunque poi dopo sempre disponibile quello che effettivamente è il corso e se uno poi va a risalire in quella che è la history dei commit praticamente può andare a seguire veramente ogni singola lezione, quella che è l'evoluzione che è stata aggiunta rispetto alla precedente. Questa è la struttura che cercherò di far assumere nel limite comunque a quelli che sono i progetti. Alcune volte avrò dei nomi non semplicissimi con questa versione furbe, però comunque cercherò di fare del meglio per offrire sempre di risalire effettivamente ad ogni lezione e vedere tutti i cambiamenti che ho fatto tra una lezione e l'altra, cosa sicuramente è molto importante, però comunque penso che la parte più interessante sia sempre poter accedere a quello che è il codice finale dei nostri progetti, dei nostri lavori, della nostra teoria. Iniziamo andando a vedere tutti quei requisiti ed elementi che ci sono necessari per andare a creare finalmente il nostro primo progetto in Gatsby. Quindi andiamo sulla documentazione e andiamo a vedere come installare quello che è l'ambiente di sviluppo e tutto quello che ci serve. In questo caso ci servirà principalmente andare a installare la command line interface di Gatsby. In questa parte di documentazione poi ci fa vedere tutti quelli che sono effettivamente il knowledge che noi dovremmo avere prima di poter iniziare effettivamente con questa parte. Ci dà tutte le istruzioni effettivamente per tutti gli elementi, quelli che sono i requisiti per seguire quello che effettivamente è questa parte di tutorial. Un requisito molto importante da avere al di fuori della conoscenza ma anche aver installato è Node. Ma avendo utilizzato già React dovreste esterne comunque tutti i muniti, ma in questa parte comunque di documentazione, a seconda di quello che sia il vostro sistema operativo, sono presenti tutte le istruzioni per andare a installare correttamente Node. Ma la parte che mi interessa maggiormente è quello che riguarda la command line interface di Gatsby. Quello che dobbiamo fare semplicemente è andare a installare utilizzando Yarn, PMP, PMP, quello che più ci pare e piace. Forse PMP richiede una configurazione custom rispetto a NPM e Yarn, ma non andiamoci a complicare la vita in questo momento, utilizziamo se possibile NPM oppure Yarn. Andiamo a copiare questa riga di codice, spostiamoci sul nostro bel terminale e lo andiamo semplicemente a installare. Essendo su Mac io dovrò aggiungere sudo e andare a installare la nostra command line interface, che come potremmo vedere quando avrà terminato è quell'insieme di utils che ci permette di richiamare dalla console e poi dal nostro Visual Studio Code, ma comunque in generale da un terminale, tutti quelli che sono i comandi utili per interagire con Gatsby. Completata la nostra installazione, andiamo a effettivamente controllare che il nostro caro Gatsby ci sia e poi vediamo tutte le utils che ci mette a disposizione. Quindi abbiamo Gatsby version e abbiamo che la command line interface è alla 4.18.1. Andiamo a utilizzare il flag di help e questi sono tutti i comandi con cui possiamo andare a interagire. Quelli che utilizzeremo principalmente saranno ovviamente develop, build, serve, clean, useremo tantissimo e poi comunque new per andare a creare effettivamente quello che è un progetto nuovo. Dovremmo avere tutti i requisiti ed essere pronti a creare il nostro primo progetto. Gatsby fa una cosa molto interessante, quella di andare a metterci a disposizione tutta una serie di starters. Ma che cos'è uno starter? Uno starter è, diciamo, un pacchetto già precompilato, possiamo dire, che contiene tutti gli elementi necessari per andare a utilizzare Gatsby insieme a qualcosa altro. Quindi se noi sappiamo che il nostro progetto prevederà, ad esempio, WordPress, ecco che utilizzando questo starter noi avremo una configurazione necessaria per andare a utilizzare WordPress già praticamente fatta. Quindi questo è veramente, veramente una cosa molto, molto utile, molto, molto figa, che va a semplificare effettivamente il nostro processo di creazione. Abbiamo Shopify, Sandin, insomma, abbiamo veramente ogni tipologia di starter con cui possiamo andare a lavorare. Noi andremo a utilizzare quello praticamente privo di ogni elemento. Quindi Hello World, il classico modo di iniziare effettivamente un qualcosa. Se uno poi volesse vedere la source code di questi starter, quindi cosa ci sarà dentro, basta che vada poi su GitHub e effettivamente poi ne legga il contenuto. Andremo a fare questo perché quando si va a utilizzare il comando Gatsby new e poi il nome del progetto, che è il modo standard di andare a istanziare un nuovo progetto Gatsby, quello che succede è che andrà a utilizzare di default, se non le si dà poi effettivamente l'indicazione di quale starter utilizzare, andrà a utilizzare ovviamente quello di default, andrà a utilizzare effettivamente questo starter per creare il nostro nuovo progetto, che contiene già comunque la configurazione iniziale con alcuni elementi, ma noi vogliamo essere proprio senza alcun elemento iniziale e fare tutto quanto da zero. Quindi quello che possiamo andare a fare è semplicemente andarci a copiare questo link unicamente, che è quello che fa riferimento allo starter, tornare sul terminale, spostarci magari sul desktop e andare a lanciare Npx. Gatsby, la cosa più difficile del mondo da scrivere, new, gli diamo un nome, lo chiamiamo l'intro teoria, insomma, come più ci pare piace, lanciamo il comando e attendiamo che effettivamente venga spinnato il nostro progetto. Perfetto, ora ci vengono date le indicazioni per andare a utilizzare il nostro nuovo progetto, noi lo andremo a fare da Visual Studio Code e non da il terminale, quindi andiamo a dire di aprire teoria, teoria a Visual Studio Code, che avverrà il nostro progetto di Visual Studio Code, e quello che andremo a fare in contemporanea sarà di prenderci una bella finestrella, tipo questa, ce la spostiamo sulla destra e ci mettiamo una a una con Visual Studio Code. Nella prossima lezione vedremo poi nel dettaglio quello che è una struttura di un progetto Gatsby, andiamo a zoomare così che si veda tutto meglio, e la prima cosa che vogliamo fare però in questo momento è quella di andare a lanciare il nostro progetto, quindi utilizziamo npm run develop oppure Gatsby develop. I comandi che possiamo utilizzare li troviamo come sempre nel nostro package dot json, dove abbiamo tutti i comandi che possiamo andare a utilizzare, quindi start, serve, clean, develop, insomma, i classici comandi che si trovano anche in una React App. Quando il nostro progetto sarà effettivamente pronto per essere visto, avremo questa opzione per andarlo a vedere, sarà sulla porta 8000 e questo è il nostro progetto. Adesso noi ci portiamo anche qua a schermo grande quello che effettivamente è il progetto, in modo che possiamo averlo in due dimensioni, sia da responsive che a schermo. Andiamo adesso ad esplorare quello che effettivamente è il nostro Gatsby project. Vediamo come è strutturato e cosa servono i singoli elementi. Partiamo dall'alto verso il basso. La prima folder che incontriamo è la folder .cache, che va a tenere effettivamente traccia di quella che è l'ultima, chiamiamola build, ovvero l'ultima volta che abbiamo lanciato il nostro npm run develop, in modo che lui comunque abbia che shatter l'informazione, l'immagine, tutto quanto, e sia istantaneo, praticamente, rilanciare un'altra, bloccare il server e rilanciare di nuovo il development server, senza che debba ricaricare tutto quanto. Dobbliché, dopo abbiamo i not modus, che come sempre contengono le nostre dipendenze, e poi abbiamo la cartella di public, che è effettivamente la cartella dove risiede la nostra applicazione finale. Non vedete, al momento abbiamo praticamente nulla, ma solo perché il nostro progetto praticamente è vuoto. Se volessimo popolarla, ci basterà andare a lanciare il nostro comando, non yarn, anche yarn, comunque funzionerebbe, npm run build, e come vedete, la nostra folder di public, dove risiede la nostra applicazione buildata, effettivamente adesso è completa ed è praticamente un insieme di elementi statici. Questo poi spiega perché effettivamente abbiamo queste grandi prestazioni e la nostra web app è praticamente raggiungibile in ogni singola pagina, perché è tutto un insieme di elementi statici che viene effettivamente poi pubblicato. Quindi public contiene quella che è la nostra applicazione buildata. La cartella di servers in che momento contiene i pages è la cartella in cui passeremo la maggior parte del nostro tempo, in cui c'è tutta la servers code e poi effettivamente gli elementi con cui lavoreremo. Inutile spiegarli al momento adesso, poiché non ci sono ancora e sarebbe solo una ripetizione in futuro. Passeremo tutto il tempo del nostro corso all'interno praticamente di questa folder. Dopodiché abbiamo la static folder che, come in tutti i progetti, è quello che va a contenere gli elementi statici. Diciamo che Gatsby non consiglia di andare a utilizzare questa folder per tenerci le immagini, se ad esempio mettessi questa immagine qua a caso e andassi a fare NPM RunDevelop per essere di nuovo sul server, io queste immagini la trovo, anche ad esempio andando a scrivere questa parola difficilissima. facciamo che la copiamo, facciamo che la copiamo, adesso mettere slash, ci troviamo qua la nostra immagine, possiamo accedere perché appunto la folder statica e la folder statica poi viene effettivamente utilizzata per servire tutti gli elementi dal nostro sito. E dopodiché abbiamo anche la possibilità di accedervi in questa maniera molto banale, ovvero di andare a mettere image e come source andare a utilizzare semplicemente .pnc, no, jpeg, jpeg, andiamo a salvare, torniamo nella nostra home page, ricarichiamo la pagina e come vedete la nostra immagine si trova qua. E' un pattern che possibilmente vi direte che non sia veramente esattamente necessario come nel caso della nostra favicon, per chi non sapesse cosa sia una favicon, è semplicemente l'iconcina che poi uno va a trovare in alto quando va a pubblicare effettivamente quello che è esercito, quindi l'immagine bellina che c'è qua sopra. Questo pattern è sconsigliato perché che fa tutta un'ottimizzazione delle immagini che andiamo a vedere e utilizzare questa soluzione non ci permette di andare a ottenere questi vantaggi, quindi è un pattern che non vi consiglio. Andiamo a eliminare questo elemento da la nostra folder di static e anche poi effettivamente dalla nostra home page. Proseguiamo nell'esplorazione, andiamo a trovare il gitignore che definisce come sempre gli elementi che non vogliamo che vengano caricati una volta che andiamo poi a ostare il nostro progetto su una ripoguita. Incontriamo poi due file che sono collegati a Prettier, Prettier che è un'estensione di formatazione che arriva insieme a Gatsby e ci permette di formattare il nostro progetto quando andiamo a lavorare. Questo si può andare a fare utilizzando il comando format oppure per chi volesse si può andare a installare quella che è l'estensione di Prettier e poi andarla a configurare come consigliato nella documentazione uno può tranquillamente nel setting.json e va a vedersi sia dall'interfaccia se uno va a scrivere format va a ottenere quello che è il suo default format e quando va a formatare io utilizzo un altro format per i motivi lavorativi quando andare a formatare automaticamente con che formatatore oppure può andare all'interno dei setting.json e andare a dire per quale linguaggio andare a utilizzare proprio un formatter io qua ho il formatter di Prettier per JavaScript come indicato da quella che è la documentazione di Prettier che ci va a dire ok utilizza effettivamente questa configurazione questo ci permetterà di andare a formattare quando andremo a salvare se io vado qua sotto e salvo come ho detto vi va a riformattarmi correttamente il codice e questi file vanno a definire la configurazione di cosa si salva e come questi file vengono salvati vengono seguiti da gatsby.config che è un file che contiene tutte le configurazioni di Gatsby in cui andremo a inserire tutti quegli elementi che ci serviranno a lavorare con i famosi plugin di Gatsby come vedete in questa scrittura particolare gatsby-config ci sono altri file di questo tipo che andremo poi a vedere quando ne avremo bisogno ricordatevi che Gatsby-config ci serve a configurare tutti i plugin di Gatsby o comunque la struttura di cosa andiamo a utilizzare di Gatsby license diciamo che si definisce da solo il package loc.json contiene le dependencies delle nostre dependencies il package.json invece contiene le nostre dependencies e tutti gli scripts che noi possiamo andare a utilizzare parlando proprio di questi come script abbiamo NPM abbiamo Build che serve proprio a buildare la nostra applicazione abbiamo un developer che ci serve a lanciare il nostro server di develop format che va a formattare la nostra applicazione Start che praticamente lancia develop perché è un pattern molto comune ad esempio React si utilizza NPM RAM Start e quindi per comodità hanno emulato questo comando ok serve invece è un comando che ci permette di servire la nostra applicazione buildata quindi quando uno va a fare una build quindi NPM RAM Build andrà a fare la build nella folder di public e serve ci permetterà di andarla a vedere buildata ovviamente in questo caso non prenderebbe non uscirebbe di nuovo questo incredibile hello world clean invece un comando fondamentale nel nostro nell'utilizzare che perché tante volte avendo comunque questa cash continua succederà molte volte che magari andiamo eliminare un file un'immagine lui pensa che sia ancora presente perché nella cash effettivamente lo vede e questo causerà un errore quindi la prima cosa da andare a fare quando sia un errore in Gatsby è quello di lanciare NPM RAM Clean perché molto probabilmente c'è un problema con la cash che non coincide con quello che è la code base attuale quindi quando incontreremo un errore la prima cosa da fare sempre è lanciare NPM RAM Clean dopo aver rifresciato la pagina questo perché? perché ovviamente è presente l'otrelode sia qua andarsi a togliere una R come vedete istantaneamente succede tutto quanto ma non sempre questo accade alcune volte va a fare delle modifiche come prima abbiamo fatto con l'immagine e l'immagine non appare sotto fino a quando non rifresciamo quindi quando qualcosa non funziona ricordiamoci di andare a rifresciare la pagina e poi di lanciare NPM RAM Clean il classico errore che viene mostrato da Gatsby viene fatto con questo bel modale esplosivo magari se ci mettessimo qua diventa più semplice abbiamo questo tipo di modale che ci fa a far notare quello che è l'errore che stiamo combinando è l'ultimo comando, il classico comando per lanciare e poi eseguire i test all'interno della nostra applicazione e come promesso lanciamo un certo profitto nella nostra source folder e in questo momento all'interno della nostra source folder abbiamo solo questa pages folder in cui abbiamo questo index.js che come vedete presenta semplicemente quella che è la pagina di home page senza che sia presente da nessuna parte un app component né tantomeno un router questo perché? Perché la folder pages va a comportarsi effettivamente come se fosse un router quindi se io qua andassi inserire magari sono a un page page e volessi creare ad esempio un about page vado a crearmi about dot jds vado a lanciare lo script rfca che vuol dire create react exported functional component e questa è la pagina di about che noi andremo semplicemente a chiamare per banalità benvenuto 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 nell'about nell'about andiamo a salvare proviamoci a spostare in slash about e come vedete abbiamo la nostra about page creiamo un'altra pagina che possa essere contattaci quindi contact.js creiamoci il nostro altro componente di export default contattaci e fidati e andassimo all'interno del nostro localhost e andassimo su contact come vedete abbiamo quella che è la nostra route contact come potete notare abbiamo sempre esportato come default se io andassi a creare broken.js e esportassi in questa maniera quindi non come default e salvassi come potete notare ottengo quello che sarà un errore se io commetessi broken otterrò che qualcosa non va nello specifico non va il fatto che io stia esportando non come default se tornassi ad avere export default e andassi a salvare e ricaricarsi la pagina vedete in questo caso abbiamo dovuto ricaricare la pagina abbiamo ottenuto di nuovo la nostra pagina quindi è molto molto importante esportare sempre come default quando andiamo a creare delle pagine diviniamo questa pagina di broken che effettivamente non ci serve a nulla una pagina che si comporta in maniera differente rispetto a tutte le altre è la pagina di foro foro quindi la pagina di errore perché se io andassi su un path che non contiene nessuna pagina quindi che non porta da nessuna parte come il broken di cui abbiamo cancellato la pagina prima di concludere la lezione precedente arriviamo su questa pagina che è la versione development della pagina di errore che ci permette di vedere le pagine che veramente esistono e di poi navigare ci volendo ma se volessi mostrare una pagina custom d'errore devo andare nella folder pages e per forza chiamarla foro foro dot j s andare a esportare quello che effettivamente è il mio componente non posso chiamare una variabile una costante iniziando con un numero quindi la chiameremo error andiamo a salvare e una volta che salviamo se andiamo sulla nostra pagina come vedete al momento non esiste ancora proprio questa pagina ricaricando esisterà la nostra pagina di errore e questo è l'unico mondo con cui possiamo mostrare una pagina di errore perché poi proprio nella public folder verrà creata quella che è una folder specifica e poi anche un file specifico ma continuando a parlare di router e routing andiamo a vedere come possiamo andare a creare delle route che sono innestate in realtà è molto molto semplice andiamo nella folder pages invece di creare un file questa volta creiamo quella che è una folder chiameremo shop in shop andremo a creare una pagina chiameremo index.js in cui metteremo show andiamo a salvare e poi creiamo sempre in shop possiamo andare a creare shoes.js e poi andiamo sempre in shop e ci creiamo socks.js e andiamo sempre a esportare il nostro componente ora se io andassi sulla pagina di slash shop come vedete come prima pagina ho shop home questo perché perché quando vado a creare una folder che va a rappresentare un puff di una serie di puff innestati con index.js e andrò descrivere a cosa corrisponderà effettivamente il valore di shop quindi senza che venga scritto il nome del secondo puff innestato se io poi andassi su shoes come vedete otterrò quello che è perché non ho salvato shoes ok ricarichiamo la pagina avrò shoes e stessa cosa varrà effettivamente per socks con socks potrò vedere la mia pagina di socks quindi per rappresentare delle route innestate la soluzione è andare a creare una folder all'interno della folder pages e poi andare a utilizzare index.js per rappresentare quello che è il puff iniziale che vogliamo che abbiano i nostri puff innestati e poi dopo tutti quelli che sono i puff innestati che voglio andare a rappresentare dopo aver visto come creare le nostre route direi che è il momento di vedere come muoversi all'interno delle nostre stesse route in React si va a importare quello che è il component link direttamente da React Router DOM o comunque da il router che uno va a decidere di utilizzare in Gatsby questo componente diciamoci è direttamente esportato tramite quello che è Gatsby quindi andiamo a importare quello che è link from Gatsby quindi andiamo a importare il nostro link component e per lo stesso motivo per cui in React si preferisce utilizzare link rispetto a quello che è il component classico di Anchor Tag il motivo è ovviamente il medesimo quindi andiamo un po' a fare un refactor molto banale di questa sezione in modo da poter utilizzare questi link andiamo a mettere un H1 in cui andiamo a posizionare il nostro sono la home page così che sia un pochino più grosso ed esplosivo e poi andiamo a mettere una banalissima nav che ci permette di navigare all'interno di quello che è il nostro progetto pazzesco che abbiamo fino a questo momento un display flex a cui poi andiamo a dare un gap di 4 pixel ok e poi andiamo a posizionare due link il primo avrà come testo about e utilizzerà la props to per andare a direzionare l'utente dove noi vogliamo che vada direzionato la nostra pagina si chiama about, la nostra route si chiama about poiché la nostra pagina nella folder pages si chiama about.js quindi la route sarà about e dopodiché andiamo a vedere cosa succederebbe se utilizzassimo quello che è un anchor tag che ha come href shop ecco aggiungiamo shop e poi ci aggiungiamo un altro bel link dove andiamo a mettere semplicemente invece che about andiamo a mettere contact e qua ci posizioniamo contact questo è il nostro incredibile nuovo router andiamo a salvare abbiamo ottenuto questo pazzesco risultato e partiamo subito da quello che è l'anchor tag come vedete appena noi andiamo a cliccare ok si sposta nella nostra bellissima route ma quello che vediamo effettivamente è che la pagina viene ricaricata per quanto si avrebbe questo caricamento però la pagina viene ricaricata mentre premendo su about ecco che lo switch alla prossima route così come su contact è effettivamente immediato e quindi questo motivo per cui si preferisce utilizzare il link component senza preferisce per cui si utilizza il link component per andare a spostarsi per route che siano interne però al nostro progetto dovessimo già spostarci all'esterno di quello che è effettivamente il nostro progetto quindi su un link che non è appartenente che quindi non coincide con una delle nostre routes dobbiamo utilizzare l'anchor tag classico questo è molto importante altrimenti otterremo un warning in console andiamo a replicare quella che è la nostra nav all'interno del nostro shop component in cui andremo a navigare all'interno del nostro shop per semplicità faremo esattamente questa schifezza qua e andremo a mettere questa cosa dentro un h1 andremo a mettere un path che ci riporterà in home ok un path che ci porterà all'interno di quelle che sono la nostra route di shoes utilizzando quello che è un path relativo e poi andremo effettivamente utilizzando il path assoluto in quello che è shop slash sox sox quindi lo mettiamo sox sox e qua andiamo a posizionare quello che è shoes andiamo a salvare non abbiamo importato il link component quindi import link direttamente da gatsby andiamo a salvare e ora tutto dovrebbe funzionare andiamo in shop e questa è la nostra nuova navigation all'interno della nostra shop home come possiamo notare se io andassi a premere su shoes mi porterebbe all'interno di quella che è la mia route di shoes magari ci spostiamo effettivamente in modo che si veda quella che è la nostra route scusate una valanga di estensioni che non mi permette di far vedere bene la route però questa effettivamente è la nostra route ci porta all'interno di shoes notiamo che questo path però è relativo se io andassi ad aggiungere in questa maniera quindi avendo shop slash shoes in questo modo in cui quindi non inizio con uno slash quando poi vado a implementare questo tornando indietro ho salvato la pagina web non il file tornando indietro e navigando premendo su quello che è shoes vado effettivamente a finire in una route che non esiste perché vado a fare shop shop slash shoes questo perché quando vado ad utilizzare l'attributo to e gli passo una route che non inizia per slash questo andrà a comunicare al mio router che sta utilizzando un path relativo quindi rispetto a dove io mi trovi in questo momento voglio che venga aggiunta questa route se invece andrà a utilizzare quella che è un inizio con lo slash questo comunicherà al path che è un path assoluto quindi andrà a prendere il nostro post la nostra origine insomma e ci andrà ad aggiungere quella che è effettivamente il path che noi andiamo a indicare nel nostro attribute to nel nostro attribute to quindi se io volessi utilizzare un path relativo devo utilizzare solo il valore di shoes come in questo caso tornando indietro adesso tutto dovrebbe nuovamente funzionare quindi andiamo a premere shoes funziona tutto e premiamo su socks e funziona anche tutto in questo caso andiamo ora a creare un layout un pochino più efficace per quanto comunque orribile ma che effettivamente vada a rappresentare le classiche funzioni che siamo abituati ad attribuire a quello che è un layout component in React ovvero cosa fa un layout component? un layout component va a permettere a tutti i nostri componenti i quali comunque vogliamo che si comportino in questa maniera di avere il medesimo layout nella maniera più smooth e ripetendo il minore numero possibile di codici quindi andiamo a creare quella che è una folder che chiameremo components in cui andiamo a creare un file index.js seguito da quello che è un file navbar.js in cui andiamo ad avere un exported component non come default ma esportandolo nominalmente in cui semplicemente ci andiamo a stracopiare questa roba qua e la andiamo a inserire all'interno della nostra pazzesca navbar anzi copiamo proprio tutto quello che non ci serve ci copiamo proprio l'intera nostra navbar e lo andiamo a inserire brutalmente qua dentro ok andiamo a creare un altro componente che è il nostro footer.js che andiamo sempre ad esportare nominalmente in cui andiamo a inserire diciamo un altro componente di una bellezza incredibile a non ammettere lo style extra banale in cui diamo un background che sarà esattamente 3,4,1,2,6,8 e tra come color quello che è effettivamente e 9 e 3 ff e ci inseriamo la frase footer incredibile andiamo a salvare ci andiamo a definire il nostro layout component layout.js che altro non farà che andare a importare navbar e successivamente andiamo a importare il nostro pazzesco footer accettere accetterà come unica props children e quello che farà questo pazzesco componente sarà di avere un react fragment all'interno del quale mostrerà la nostra navbar navbar il nostro footer e poi farà il render del nostro children e ricordandoci bene che cosa sia il children il children altro non è che una props riservata quindi non è casuale ma è effettivamente un valore riservato che rappresenta tutti gli elementi che noi andremo a frappare con il nostro componente di layout quindi i figli del nostro parent layout questo cosa ci permette di fare? di andare nel nostro index rimuovere effettivamente qua siamo in shop però di andare nel nostro index e di andare a rimuovere effettivamente questa parte e di andare a utilizzare il nostro componente di layout andiamo a salvare andiamo a salvare se volessimo essere più corretti dovremmo magari importare nella nostra navbar nuovamente il componente di import scusatemi di link da Gatsby ora dovrebbe funzionare tutto volessimo essere più corretti qui come vedete adesso si è aggiunto il nostro incredibile footer al nostro nostro index dot js dovremo andare ai nostri components e fare un export e fare un export di tutti i componenti da il nostro file di layout in questo modo potremo poi importare direttamente il nostro componente da la folga di components e dovrebbe funzionare tutto andiamo a ripetere questa operazione anche all'interno della pagina di contact ci importiamo il nostro layout e anche all'interno del nostro component di about andiamo a salvare tutto quanto spostiamoci nelle altre pagine quindi in contact ecco che abbiamo il nostro elemento anche all'interno della pagina di contatti andiamo in about abbiamo il nostro stesso layout andassimo invece su shop ci troviamo in una condizione in cui il nostro layout è differente proprio perché il componente layout nella nostra home page della folder di shop non è assolutamente presente ma abbiamo un'altra navigazione di layout come vedete è praticamente identico a react niente di nuovo infatti sul comportamento del jsx come possiamo vedere ci troviamo perfettamente nelle stesse condizioni di quello che è una normalissima react app quindi non è niente di nuovo questa funzione questa sezione serve per ripassare prendere confidenza con quello che è il mondo di catsp e come si comporta con il nostro gesto ora a parlare di css diciamo che le alternative sono sempre le stesse non è che ci si può inventare la ruota ogni volta e partiamo da quella ovviamente più semplice come abbiamo già visto per andare a leggere il nostro footer incredibile ma anche per la nostra navbar abbiamo utilizzato come prima cosa il nostro inline css quindi niente di nuovo rispetto a react come abbiamo visto che si utilizza siamo in javascript ricordiamoci quindi passiamo un oggetto due volte le parentesi graffe non perché bisogna aprire due volte le parentesi graffe come regola ma perché la prima serve a comunicare a react che siamo per andare a passare del javascript come in questo caso siamo per passare un oggetto quindi apriamo le prime volte la parentesi la prima volta serve a comunicare proprio a react che siamo per passare un oggetto in javascript e poi passiamo il nostro oggetto il classico inline css niente di nuovo se invece volessimo utilizzare del css globale quello che andiamo a fare andiamo all'interno della nostra source in generale e andiamo a definire quello che può essere effettivamente il nostro file di css quindi andiamo a definire un file chiamandolo layout.css all'interno del quale andremo a definire il classico style che si va a fare come prima cosa di reset quindi andiamo a asterisco after before e andiamo a dire che questi elementi avranno tutti padding 0 pixel margin 0 pixel e box border box che vuoi definire ad esempio body font family questa incredibile font che utilizzerà sicuramente il nostro sans serif e poi andiamo a mettere un background a caso quindi rgba e poi passiamo 98,0 2 3 8 e poi come alfa 0.05 che è un violettino molto chiaro andiamo a salvare spostiamoci nella nostra home e ecco che il nostro styling non è ancora applicato questo perché perché dobbiamo andare effettivamente a importarlo nel nostro progetto che è il posto più sensato per importarlo visto che tutti questi elementi vanno a tutti gli elementi sono frappati del nostro layout component proprio di andare a importare il nostro css questa volta non come abbiamo fatto in precedenza come di component ma direttamente importare il nostro layout dot css andiamo a salvare come vedete il nostro elemento cambia e inizia a avere del suo stile se magari avessimo un background solo per fare una prova red e andessimo a salvare ecco che il nostro background diventa effettivamente red un qualcosa di molto importante chiaramente che come ci ricordiamo i component che sono frappati da questo layout quindi le pagine che sono frappate da questo layout component se ben facciamo mente locale sono esattamente about contact e index ma se adesso andassi effettivamente nella pagina di shop come vedete trovo anche in questo caso il background rosso e come è possibile visto che vado a importarlo solo all'interno del layout e questo component di shop come possiamo chiaramente vedere non contiene e non è contenuto soprattutto dal layout component perché solo e unicamente ripeto solo unicamente quando siamo in develop quindi quando lanciamo develop ma poi in build questo non funzionerà il layout viene applicato layout sessi viene applicato a tutti i component non solo a quelli frappati dagli auto o in prod quindi quando la nostra build sarà abilitate servita live questo non funzionerà solo i component che sono frappate il nostro layout component mostreranno questo layout questo è molto importante torniamo a dargli un background che non ci disintegri o che aggiungiamo ancora un po' di sessi per giocare un po' e aggiungere anche delle classiche quindi aggiungiamo per giocare un bel h1 a cui passiamo color 8 7 6 9 f diventa di questo incredibile viola e poi andiamo a definire una classe chiameremo container che molto semplicemente andrà a dire che abbiamo una max quif di 1440 pixel una wif che sarà calc 100 per cento meno 24 pixel e margin auto andiamo a salvare e andiamo ad applicare a quello che è il nostro layout component che è tutto quello che è contenuto quindi il nostro cintra che potremmo dare magari il tag di main ha come class name il nostro bel container andiamo a salvare gli lanciamo all'interno il nostro citer e ora spostandoci magari nella nostra come vedete viene centrato in questa maniera se io poi andassi a prendere più spazio magari possiamo vederlo facendo un po' questo giochino qua il nostro localhost si ho zoom massimo vedete questo contenitore ci serve un po' da limitatore e va a tenere sempre il nostro layout centrato rispetto a quella che è la dimensione della pagina del nostro utente la sono sul monitor abbastanza grande però comunque come vedete rimane sempre centrato e ci permette di avere facilmente un uniformità dell'allenamento sia a destra che a sinistra quindi facendo velocissimo recap con opportunità numero uno abbiamo il line CSS con il CSS più basilare passato direttamente all'interno del nostro GSX e poi possiamo anche andare ad applicare quello che è un nostro global layout che viene poi importato nel nostro layout component ovviamente che lo passerà a tutti i suoi children in prod mentre in development sarà attivo anche all'interno di file che non sono frappati da questo component anche in questo caso non ci troviamo di fronte a nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto tranquillamente in pre-act andare ad utilizzare quello che è un layout component favorisce la mantenibilità del codice poiché ne riutilizziamo veramente tanto riutilizziamo molto il nostro style però sicuramente avremo un problema di name collision ovvero che quando poi la nostra applicazione sarà veramente piena di componenti andrà davvero un grado di complessità abbastanza alto ci troveremo nella condizione in cui inventarsi dei nuovi nomi per le classi e soprattutto poi ricordarseli e non ripetere ultimamente le CSS diventa abbastanza complicato una possibile soluzione a quello che è questo problema c'è data da i modules vado a chiudere un po' tutte le pagine in modo che riniziamo effettivamente avendo tutto un pochino più chiaro sono i modules andiamo all'interno dei nostri components anzi nella source folder facciamo prima e andiamo a creare questa folder module anzi andiamo a definirla chiamarla module se non importa e all'interno di questa nostra nuova folder andiamo a definire quello che è il nostro ad esempio un punto module punto css dove andremo ad avere uno style molto semplice in cui ad esempio la classe di page avrà color blue violet e poi avremo che tutti gli h1 della nostra page avranno un colore green e tutti i text avranno text transform e gli passeremo upper case andiamo all'interno del nostro file home nella nostra index nella nostra home page quindi andiamo all'interno di pages e andiamo in index.js e ci andiamo a importare nominalmente quelle che sono le classi che abbiamo definito quindi from modules o modus.css da qua andiamo a importare direttamente le nostre classi quindi andiamo a importarci page e ci importiamo ad esempio text andiamo a definire un po' di cos'è caso quindi magari un paragraph che lo rompiremo di lorem facciamo esattamente così mettiamoci un pochino più di spazio per il codice ok così possiamo zoomare maggiormente senza che sia orribile e effettivamente questo potrebbe essere più che sufficiente frappiamo tutta questa roba in un bel div ok a cui diamo come class name al nostro div gli diamo quella che è il valore di page andiamo a salvare come vedete il nostro titolo diventa verde e il nostro il colore del nostro testo diventa di questo incredibile blu violet se io andasse ad applicare a questo paragraf quello che è la class name di text ecco che viene fatto tutto maiuscolo questo in poche parole cosa ci permette di fare? ci permette di avere una forte riutilizzabilità dei name dei nostri elementi perché se io andassi meramente a copiare questo e definissi modules.about.module.css e meramente ci incollassi non ho copiato nulla di quello che ho chiesto di copiare ok copiassi meramente quello che è il valore delle mie classi che sia esattamente identica io posso andare all'interno del mio about component e importare magari questa volta facciamo in maniera diversa importiamo tutto quanto as about style from modules slash about modules.css nel caso comunque non aveste questo completamento dell'intellisense per questi componenti per questi path per questi elementi vi consiglio l'estensione caso di schemi path intellisense ok che andrà per voi a completare questi questi elementi in modo che sia più semplice per voi andare a importare chiusa questa mini parentesi e tornando effettivamente al nostro codice possiamo importare esattamente in questa maniera e poi quello che dovremo fare facciamo che anche in questo caso saremo pigri e faremo esattamente la stessa roba quindi frapperemo il nostro div in cui l'h1 avrà come text about page ok e poi avremo ok non ha funzionato questo schema stavolta molto probabilmente avremo p e poi loren 20 e andiamo a utilizzare esattamente le stesse classi quindi dobbiamo dire che class name questa volta sarà uguale semplicemente a about style style dot page e il nostro p avrà una class name che sarà uguale about style dot text andiamo a salvare spostiamoci nel nostro about e come vedete otteniamo lo stesso risultato volessimo differenziarci magari mettiamo capitalized così che effettivamente sia diverso e posso riutilizzare esattamente le stesse classi questo perché? perché se andassimo ad ispezionare quello che è il nostro incredibile layout ci renderemo conto ci renderemo conto che le nostre classi hanno dei nomi unici quindi se andassimo sul nostro paragrafo come vedete abbiamo che la nostra classe che ne passiamo come text molto banalmente è about module text e poi diciamo questo id univoco univoco differente tornassimo nella nostra home page nella nostra home page vedremo che questo comportamento viene nuovamente replicato ma questa volta avremo dei nomi completamente diversi in questo caso come vedete abbiamo degli altri id completamente o module text e poi degli id questo cosa ci permette di fare? di utilizzare effettivamente per noi esseri umani gli stessi nomi ma poi per andare ad avere delle classi uniche che non vanno mai a ripetersi e questa è sicuramente un'alternativa molto valida per quanto la ritengo un po' macchinosa perché va ad avere effettivamente questo tipo di import che non è così così chiaro di per sé però comunque una soluzione molto molto valida per andare a fare lo styling ovviamente posso avere tanti modules quanti voglio potrei avere anche dei modules per i singoli component niente mi impedisce di comportarmi in questa maniera terza alternativa e quella che ritengo la più valida sono gli styled components vediamo magari questa finestra che non ci serve più a nulla abbiamo un desktop in mezzo ok no perfetto andiamo a vedere quelli che sono gli styled components altro non è che una libreria molto molto utilizzata soprattutto in combinazione con react ci permette di creare componenti che hanno già al loro interno effettivamente quello che è dello stile come vedete da questo esempio va a definire quello che è un bottone e poi ne va a dare le props e poi va a utilizzarlo proprio come se fosse un componente è veramente molto molto comodo perché ci permette di avere il CSS nella stesso file effettivamente di quello che è un componente e poi di esportarlo in maniera sicuramente più dinamica questo ci metterà poi in contatto anche con quello che è uno degli aspetti molto importanti con Gatsby che è quello dei plugin questo perché perché per andare a utilizzare queste librerie quindi styled components avremo bisogno di installare il nostro primo plugin è un plugin diciamo che interviene quando c'è bisogno di rendere un qualcosa il più possibile conforme a quello che è il funzionamento interno di Gatsby in questo caso per styled components dovremo semplicemente installare tutte queste librerie normalissime effettivamente in Gatsby niente di strano dover installare quelli che sono degli elementi delle alternative a quelli che sono delle librerie normali in react ed aggiungerne altre perché in react ci basterebbe andare a installare quello che è styled components e poi andarlo a utilizzare in questo caso abbiamo bisogno di avere un bubble quindi un polifil che vada a semplificare quello che è il codice scritto da questo plugin e poi effettivamente lo stesso plugin di Gatsby che poi andrà effettivamente a utilizzarlo correttamente e mostrarlo poi correttamente sicuramente in build time l'utilizzo di questo plugin è effettivamente questo andiamo a installare questi package una volta installati questi package andremo all'interno del nostro file gatsby.config.js non preoccupatevi delle vulnerabilità stiamo semplicemente giocando con un progetto custom quindi sicuramente meno qualcosa che in questo momento ci interessa e ci impedisce di imparare quello che è il funzionamento di Gatsby quindi installato quello che è la nostra libreria semplicemente quello che dovremo fare sarà andarci a copiare il nostro nuovo incredibile plugin andare nel nostro file gatsby.config e semplicemente utilizzando quelle che sono diciamo le virgolette da literal string andiamo a inserire il nostro componente quindi è molto importante tenere a mente che quando andiamo a fare un intervento su questi file di configurazione di Gatsby ci viene praticamente richiesto di ristartare quello che è il nostro server perché questi file sono di configurazione e intervengono durante il build time quello che stiamo facendo in questo file è informare Gatsby che da adesso quando andrà a compilare il nostro codice dovrà utilizzare e compilarlo tenendo in considerazione che stiamo utilizzando styled components quindi andiamo a ristartare il nostro server e facciamo npm run develop con questo andrà a compilare nuovamente il nostro file ok e ora potremo utilizzare i nostri styled components chiediamo un po' di file che effettivamente non ci servono più andiamo nella nostra home page quindi andiamo in index.js chiudiamo questa tendina e chiudiamo anche quella a destra e realizziamo il nostro primo styled components quindi andiamo a definire e replicare quello che è effettivamente questa stessa funzione che abbiamo all'interno del nostro modus quindi andiamo a eliminarlo togliamo effettivamente quelle che sono queste classi e ritorniamo allo stato iniziale andiamo a salvare ristartiamo la pagina e siamo effettivamente nella condizione iniziale andiamoci a importare direttamente import styled from styled components e ora possiamo andare a creare il nostro primo styled components che si comporta esattamente come un componente quindi in questo caso metteremo wrapper uguale styled dot gli diciamo che tipo di tag vogliamo andare a creare quindi in questo caso faremo banalmente un bel div utilizziamo le nostre template literal string e all'interno andiamo a definire il nostro style guardiamoci il nostro home module lo mettiamo magari lateralmente effettivamente lo stile che avevamo prima lo possiamo tranquillamente copiare lo andiamo a inserire nel nostro wrapper e poi andiamo a utilizzare il nostro wrapper in questa posizione però la differenza è che noi non abbiamo bisogno di andare a definire una classe di page ma diciamo che semplicemente tutto ciò che sarà all'interno del wrapper avrà questo colore blu violet gli h1 all'interno del wrapper avranno questo colore e manterremo la classe di text che passeremo in questa maniera andiamo a salvare otteniamo lo stesso risultato ma notiamo fin da subito quanto sia semplice e soprattutto riconoscibile trovare il nostro style e quanto semplifichi l'utilizzo di questi componenti che volendo potrei esportare questo componente e utilizzarlo effettivamente in tutto in tutta la mia applicazione senza andare a essere confusione ma avere dei componenti in questo senso puramente dedicati allo stile la selezione la considero facoltativa andrò a giocare un pochino di più con gli standard components per farvi vedere effettivamente quello che è chiamolo così il potere di questi componenti perché tra tutte le opzioni che vi ho fatto vedere sono la mia soluzione preferita ovviamente esistono delle alternative che sono molto valide così come abbiamo standard components abbiamo anche ad esempio Emotion React che è un'altra libreria che è praticamente non dico identica a styled components ma comunque segue lo stesso principio va a utilizzare effettivamente lo stesso tipo di styling differenziandosi per alcuni comportamenti parlando di styled components per vedere come utilizzarli al massimo perché sono una scelta veramente interessante andremo a definire dei componenti di puro stile quindi andiamo all'interno della nostra folder chiudiamo questo elemento di components e creiamo un componente che chiameremo buttons quindi conterrà più bottoni andremo a importarci il nostro styled per uno stile components e andremo a definirci il nostro scusatemi il nostro const button che sarà uguale a uno styled button andrò spedito perché questo è puro styling potete tranquillamente guardare senza mettervi a riprodurre effettivamente quello che è fatto a fare il nostro bottone come prima cosa andrà ad avere quello che è un border di un pixel sarà solid e poi avrà come colore quello che è il nostro intramontabile violo 8769f dopodiché avrà quello che è lo stesso background quindi il background avrà effettivamente questo stesso background sarà seguito da un color normalmente white e avrà un border radius di 100 pixel gli andiamo a dare poi un display flex una line items center e un justify content center andiamo poi a dargli delle dimensioni per giustificare il fatto che facciamo flexare tutto avremo 40 pixel di altezza e poi una min width di 40 pixel immagino che il nostro bottone sia sempre almeno tanto alto quanto lungo anzi al contrario almeno tanto lungo quanto alto andiamoli poi del banale padding lo avremo 0 pixel e 12 pixel e poi gli diamo un margine solo per staccarli effettivamente mentre gli altri componenti che sarà di 16 pixel e 0 pixel laterali e diciamo che ha un cursor che ha un cursor pointer andiamo a salvare esportiamo il nostro button export export cost button andiamo nel nostro index e esportiamoci tutti i componenti nominali che sono esportati dal file buttons andiamo a salvare andiamo nella nostra index page e ci importiamo dai nostri components anche button e andiamo a utilizzare banalmente il nostro button in questo caso e ci scriviamo premi andiamo a salvare e otteniamo il nostro bottone come vedete manca effettivamente di quello che è un over andiamo a vedere come si possono utilizzare queste props quindi ad esempio un over è molto molto semplice ci basterà utilizzare and che vuol dire veramente rispetto a se stesso quindi quando questo elemento quindi se stesso il button il nostro componente subisce un over ecco che accadrà che avremo un background che diventerà un pochino più scuro quindi avremo a4 3,5 f 0 andiamo a salvare e ora facendo over il nostro bottone diventerà effettivamente diverso se volessi andare a vedere un altro aspetto molto interessante che li rende assolutamente un qualcosa di molto molto potente che io posso andare ad avere e far accettare ai miei componenti anche quelli che sono delle props e ho un'alternativa di scrittura quindi se avessi ad esempio export const custom button posso dire che va ad estendere quello che è quindi styled invece che passargli un tag che voglio utilizzare gli passo un componente che io ho già quindi estendiamo quello che è un button quindi il nostro bottone che abbiamo creato e questa volta utilizzeremo però la scrittura ad oggetto perché io potrei scrivere tutto questo come se fosse un oggetto questa scrittura è più comoda perché ci permette poi di intervenire in maniera più interessante quindi andiamo a dire che il nostro componente ha una proprietà is full width quindi questa che stiamo definendo è una funzione che altro non fa che ritornare un oggetto e il nostro oggetto è molto semplice avrà width nel caso is full width avremo 100% altrimenti sarà fit content e come secondo parametro accetto un altro oggetto in cui andiamo a dirgli che il suo background è differente ed è 341268 andiamo a salvare esportandolo come costante avendo fatto questo giochino nel nostro index.js di componenti ricordiamoci che siamo esportati tutti i componenti che sono esportati nominalmente dal nostro file buttons quindi stiamo esportando anche direttamente questo custom button andiamo a importarci il nostro custom button e se io qua andassi all'interno del mio file e mettessi sono custom salvando vedete ottengo un bottone che è in tutto e per tutto identico questo perché non ho passato bene il colore come vedete il bottone è diverso quindi abbiamo due bottoni effettivamente differenti e se io andassi a passargli la props is full with tutto lo spazio disponibile questo ci fa capire perché sono una soluzione molto molto interessante ovviamente non posso farmi più di tanto su questi componenti ve li fornirò praticamente poi all'interno dei progetti comunque la parte di CSS sarà sempre compilata io ve li fornirò direttamente già realizzati o comunque quando li realizzeremo spiegherò nel dettaglio cosa sto facendo però non posso andare a farvi tutto un intro su questi componenti ma comunque con la documentazione è veramente super dettagliata veramente tanti capitoli sia avanzati che basici che vi permettono di comprendere veramente bene come andare a utilizzare questa libreria che è sicuramente e diventerà uno dei vostri migliori amici durante lo sviluppo uno degli aspetti più interessanti di Gatsby uno dei tanti aspetti interessanti è come vengono trattate le immagini che è il prossimo topic che andremo ad affrontare io in questo caso sono andato a rallentare la connessione disabilitando quella che è la cache e poi andando ad abilitare il fatto di essere in fast 3G e come possiamo notare le nostre immagini ci offrono effettivamente un placeholder che ne mantiene la dimensione e la posizione e nel frattempo che le risorse vengono caricate va a dare un'anteprima al nostro utente di queste immagini ma questo che cosa effettivamente va a creare di solo le quinte beh come possiamo vedere abbiamo all'interno del nostro div ovvero dell'immagine che andremo poi a mostrare abbiamo questo wrapper all'interno del quale abbiamo una serie di immagini che utilizza la source set la source set per chi comunque non ne fosse effettivamente a conoscenza sarebbe per andare a fornire più di una versione di un'immagine che va appunto come potete vedere ad avere più dimensioni al suo interno in modo che il browser possa andare a scegliere quella che è più corretta rispetto comunque alle dimensioni che deve andare ad occupare in modo da non andare a fare un render di un'immagine gigantesca su effettivamente un dispositivo che non abbia bisogno di tutta quella size quindi va ad avere anche un'ottimizzazione in questa direzione quindi di fornire al browser l'immagine con la size la densità anche poi di pixel più corretta da andare a mostrare a seconda del dispositivo dopodiché va anche a gestire proprio quella parte di placeholder che è data da questo data hidden true ci sono diversi metodi di gestione del placeholder ma come vedete va a prendere quello che è un background color ovvero il colore dominante dell'immagine che dovrebbe subire il render in questo caso abbiamo questa immagine effettivamente gialla se nel frattempo che l'immagine carica noi abbiamo effettivamente il render di questa immagine che viene poi nascosta una volta che l'immagine effettivamente subisce il render come possiamo vedere quando poi passa effettivamente a essere caricata l'immagine abbiamo questo opacity che passa poi effettivamente a zero e questo è tutto il lavoro che viene fatto automaticamente dal nostro plugin di Gatsby insieme a tante altre funzioni che sono di compressione e di quant'altro possiamo installare i nostri plugin di Gatsby e iniziare a utilizzare le nostre immagini per prima cosa andiamo semplicemente sul sito di Gatsby e andiamo tra i plugin open source Gatsby plugins e poi andiamo a cercare il nostro plugin per le immagini come vedete è un plugin super scaricato e troviamo all'interno di questa sezione tutta la documentazione che noi andremo a seguire passo passo poi nelle prossime lezioni per scoprire tutte le props e possibilità che abbiamo per andare a utilizzare le immagini una cosa molto interessante è che qua in alto potete vedere se questo è un plugin ufficiale oppure un plugin della community qual è la differenza è che il plugin ufficiale è direttamente mantenuto da quello che è il team di Gatsby mentre un plugin della community è mantenuto da un team di persone oppure un buon cristiano che ha creato questo plugin quindi quando un plugin è ufficiale praticamente sarà automatico e quando Gatsby avrà un update questo plugin venga poi updateato in modo adattarsi perfettamente alla nuova versione di Gatsby ma procediamo con l'installazione dei nostri plugin di tutte le dependencies che questi plugin che questo plugin necessita per funzionare al meglio ci basterà copiare effettivamente quella che è questa incredibile riga di install andare nel nostro progetto e nel terminale andare a incollare questa serie di plugin da andare a installare una volta che avremo installato questi plugin quello che dovremo andare a fare sarà proprio il passaggio numero 2 ovvero di aggiungere alla lista dei nostri attuali plugin quelli che sono i nuovi plugin che siamo andati ad installare al momento ricordiamoci che abbiamo solo il plugin per la serie di components andiamoci ad aggiungere essendo un array tutti gli altri component andiamo a salvare vi ricordo che se per caso aveste il server aperto in questo momento dovete sicuramente andarlo a restartare perché quando si vanno a modificare file di configurazione ma comunque tutti quei file che hanno gatsby.config.js o così come il package.json è necessario andare a restrattare il server per motivi molto banali che riguardano la parte di configurazione e soprattutto il build del nostro progetto un'altra cosa che sembra inutile però se uno volesse andare a rannare quello che è tutto gatsby sulla porta una porta diversa da 8000 basta raggiungere in questa posizione il numero di porta che si vuole andare a mostrare quindi in questo caso mettiamo 4.000 e andiamo a lanciare il nostro npm run develop e come vedete il nostro host è quello che è il localhost 4.000 altrimenti il default è su 8.000 restartiamo su 8.000 perché è più comodo anche in questo caso se è necessario andare a fare un restart del server non avendo ottenuto nessun errore sul nostro server questo vuol dire che il nostro plugin è effettivamente installato correttamente per farne una prova torniamo magari nella nostra about page nelle index lasciamo questi strade components e andiamo a fare una prova ovvero import ad esempio static image ok il nostro plugin è effettivamente qua andando a importare non abbiamo alcun problema al di fuori del fatto che si è importato e non utilizzato vedere che l'installazione è andata a buon fine quindi per ripassare come si installa un plugin si va nella documentazione ufficiale di Gatsby si vanno a prendere effettivamente tutti quelli che sono le dependencies che ci sono intorno a un plugin perché magari under the hood va a utilizzare questi altri plugin che al momento per noi non sono necessari ma il nostro plugin per le immagini ha bisogno di avere questi questi dependencies per funzionare al meglio e poi si vanno ad aggiungere alla lista dei plugins nel file Gatsby config.js all'area di plugin utilizzando i template di transferring questo è molto importante i nostri plugin in modo che Gatsby sappia che quando va a buildare deve tenere in considerazione il fatto che ci siano questi plugin che intervieranno all'interno del nostro andiamo a vedere quella che è la differenza tra un'immagine Gatsby e un'immagine utilizzata normalmente per andare a fare questo la prima cosa da fare è molto semplice di lanciare nel nostro progetto un'immagine ci sono diverse soluzioni la più banale è quella di andare su Excel e scaricarsi un'immagine che sia un bel mattone per fare questo abbiamo diverse opzioni la più banale è quella di andare su Pexels e scaricare un'immagine qualsiasi quindi da parte di filtri mi scriviamo magari people a caso prendiamoci la foto di questo tizio a caso andiamo a fare un download prendiamo un size bello pesante e ce lo andiamo a scaricare vediamo un nome più sensato che sia big andiamo a salvare andiamo a crearci nella nostra source folder una folder chiamata assets all'interno del quale abbiamo images e tiriamo la nostra immagine dentro questa folder di images se 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 voglia di mettere sta cazzo di immagine da dentro la nostra immagine è caricata pesa un mega e 9 questa immagine e questo è un dettaglio molto importante andiamo all'interno della nostra pagina di about dove andremo effettivamente a giocare con le nostre nuove amiche immagini togliamo questo stile orribile togliamo le classi che non ci servono e andiamo a definire uno styled components che ci permette di drappare questa immagine ed essere carino quindi andiamo a fare cost image box styled add diremo che è un div magari importiamo styled from the components diremo che è un div apreremo le parentesi utilizzeremo la notazione ad oggetto e diremo che è a max width di 343 pixel border radius di 16 pixel width 100% 100% overflow hidden ok hidden scritto minuscolo magari e poi gli aggiungiamo un bel display flex e diciamo che tutte le immagini al suo interno hanno una width del 100% andiamo a salvare ci importiamo la nostra immagine import big image from assets images la nostra bella immagine andiamo a togliere magari questa robaccia qua creiamo una cosa molto semplice che sarà questo bello spacer che altro farà cadere un margin top di 16 pixel class come da caso il nostro caro spacer e all'interno andremo a posizionarci un h3 che avrà la voce di images e proviamo a vedere la nostra image src src come va a comportarsi big image l'alt al momento non ci interessa andiamo nel nostro localhost andiamo sulla pagina di about dove abbiamo la nostra incredibile gigantesca gigantesca immagine ovviamente sarebbe carino se lavora passiamo nel nostro image box in modo che vada a dargli un senso vero questa è effettivamente la nostra immagine aggiungiamo un bel spacer qua sotto in modo che abbiamo qualcosa di più visibile e meno fastidioso anche qua possiamo aggiungere una classe che sarà il nostro spacer andiamo a salvare e anche la nostra immagine avrà del margine dall'alto una cosa molto interessante da andare a notare in questa immagine che nonostante la mia immagine comunque prima fosse 6.000 per x e quindi pesasse un bel mega e 9 se io vado effettivamente nella tab di network e andassi a vedere quanto questa immagine effettivamente pesi magari facessimo qua bene un pochino meglio intanto vediamo che quando carica abbiamo il primo salto ora non c'è più perché ormai ha iniziato a cashare e effettivamente tutto quanto è lì però se io andassi a vedere quanto pesa questa immagine comunque continua a pesare un mega e 9 non c'è nessuna ottimizzazione ma se noi andassimo a servirla con quello che è la nostra static image static image a cui andiamo a passare poi ne vedremo perché come source gli passiamo direttamente assets slash images big image dot jpeg andiamo a salvare mostriamo la nostra immagine in questa maniera ora abbiamo due immagini intanto notiamo il placeholder differente di queste immagini quindi se vado a ricaricare come vedete questa mi offre questo caricamento molto molto smooth e se andassi a vedere quanto effettivamente questo elemento pesi al momento ecco come vedete ottengo un peso di 110 kb contro un peso di un mega e 9 che è veramente veramente tanta roba per quando si vanno a utilizzare connessioni che non sono così performanti come ad esempio un 3G ecco scaricarmi immagino da un giga e 9 da un mega e 9 scusatemi in 3G e un'altra cosa rispetto a scaricare 110 kb e questa come vedete è proprio la differenza tra l'esperienza utente che ci offre una Gatsby Mage rispetto a quella di un'immagine normale questo orribile caricamento all'alto con poi il layout che salta perché l'immagine all'inizio non esiste è un qualcosa che Gatsby risolve per noi e dà un'esperienza utente molto più interessante e queste sono delle tante funzionalità che ci offrono queste immagini e l'ultima cosa che volevo farvi vedere poi vedremo tutte le props è che però così come linkort h come i tag image del nostro html anche dei nostri static image accettano quelli che sono dei semplici link quindi funzionano nello stesso modo andando a salvare avremo poi il render anche di questa nostra immagine che è semplicemente un link quindi funzionano anche utilizzando i link come source scendiamo ora un po' nel dettaglio rispetto a quello che sono le nostre immagini come possiamo vedere dalla documentazione ci salta all'occhio che esistono immagini statiche e immagini dinamiche dal nostro codice possiamo vedere che fino a questo momento stiamo utilizzando quelle che sono le static image qual è la differenza detto in maniera molto banale è che le immagini statiche sono quel tipo di immagini che non variano mai all'interno comunque del nostro progetto quindi mettiamo a casa se fosse magari immagini di questo logo oppure di un determinato elemento che sappiamo che non varierà mai mentre le immagini dinamiche sono quelle immagini che magari ci arrivano da delle query o comunque al momento in cui andiamo all'interno del nostro codice non sono già definite di default guardando poi effettivamente in dettaglio come Gatsby va a interpretare la differenza tra immagini statiche e immagini dinamiche ci rendono serviti due componenti al momento noi stiamo utilizzando static images static image ma se volessimo potremmo importare Gatsby image che è quel componente che viene utilizzato per gestire le immagini dinamiche lo vedremo poi successivamente nelle prossime lezioni andiamo un po' a vedere quelle che sono alcune delle props comune tra queste due tipologie di immagini e poi andiamo nel dettaglio di quelle che effettivamente sono le immagini statiche tra le proprietà condivise ovvero che entrambi questi componenti condividono abbiamo il classico alt che viene marcato come required che quella stringa che va a descrivere la nostra immagine qualora non fosse possibile vederla ed è anche comunque richiesto per accessibilità perché una persona non solo un browser non può vedere l'immagine ma comunque anche una persona potrebbe non avere la possibilità di vedere la nostra immagine e permettergli comunque di individuare cosa ci sia all'interno di un'immagine è ovviamente molto importante poi abbiamo la proprietà di es che ci permette di andare a dire che tipo di tag html sarà il wrapper della nostra immagine se mettessimo che è ad esempio un article e andassimo a salvare andando poi a rispezionare che adesso ne prenderà in un'altra schermata ma farei modo di spostarlo sotto se andassimo a vedere il nostro wrapper effettivamente da che tipo di tag è composto ci troveremo di fronte ad un article abbiamo avuto bisogno di andare a ricaricare la pagina ma ci troveremo di fronte a quello che è un article quindi serve effettivamente a dire che tipo di tag vogliamo che la nostra immagine effettivamente assuma poi abbiamo lo adding che è il metodo di caricamento della nostra immagine che è un parametro che permette di indicare a Gatsby come vogliamo che le nostre immagini vengano caricate soprattutto in che momento vogliamo vengano caricate abbiamo questa differenza tra l'esic e il valore di default e eager che fa sì che quando andiamo a impostarlo come eager la nostra immagine venga caricata ancora prima che inizi l'idratazione di React questo cosa serve serve per quelle immagini che sono praticamente visibili appena uno apre un sito e abbiamo bisogno che ci siano da subito e che non siano non abbiamo bisogno di aspettare che queste completino il loro caricamento comunque che altre cose vengono caricate prima di iniziare il loading di queste immagini poi abbiamo class name che ci va a dare una classe effettivamente a quello che è il wrapper della nostra immagine quindi una classe che va su quello che adesso abbiamo definito come article poi abbiamo image class name che invece va a posizionarsi effettivamente come classe della nostra immagine quindi se ne andassimo mettere qua class name potremo tranquillamente vedere che ci troviamo con la classe di prova cioè da ricaricare la pagina andiamo sulla nostra sul nostro sul nostro article e possiamo vedere che troviamo la nostra classe prova quindi lo scopo di queste class name è di andare ad assegnare una classe al nostro incredibile wrapper successivamente poi abbiamo image class name che abbiamo c'è detto style che va a dare dello style inline al nostro wrapper sempre e image style che va a dare dell'inline style a quella che è effettivamente la nostra immagine poi abbiamo una serie di elementi che ci permettono di gestire effettivamente il background color della nostra immagine e come l'immagine viene posizionata e queste sono le proprietà che abbiamo in comune tra tutti i due elementi per quanto riguarda l'immagine statica l'unica cosa che l'unica props che è veramente required è proprio l'assertus props che è required come required o comunque quello che è l'alta al momento noi ce l'abbiamo non causa un errore ma causa un warning questo abbiamo delle restrizioni nell'uso delle nostre immagini statiche perché non possiamo andarle a utilizzare in maniera appunto dinamica nelle sue props questo cosa vuol dire che se ad esempio io avessi il fatto che questa immagine mi venisse passato da un altro componente quindi se mettiamo a caso che io qua avessi logo in maniera molto banale se io questo andassi a passarglielo in questa maniera ecco che non funzionerebbe e otterrei quello che è molto probabilmente un errore o comunque l'immagine non funzionerebbe perché non possiamo andare a passare in questo modo le nostre props alle nostre immagini perché hanno bisogno che effettivamente siano definite prima che prima che vengano compilate quindi devono essere per forza delle stringhe e per lo stesso motivo non possiamo andare a calcolare ad esempio l'altezza o comunque magari la larghezza delle nostre immagini sul client quindi mettiamo caso che io avessi una funzione qua che va a calcolare altezza ecco mi ritornasse ad esempio e qui non potrei andare a passare questa altezza a quella che è il mio componente ma deve essere un valore stabile nel caso invece fosse in maniera molto semplice qualcosa come uguale 400 invece in questo modo funziona perché può essere compilato direttamente durante la build time e quel valore sarà effettivamente già in quella posizione quando andrò a passarlo alla mia immagine sarà già definito e calcolabile direttamente sul nostro bellissimo client perché sarà già effettivamente disponibile avere il risultato finale durante il build time e avere un valore già calcolato in build time e non dover aspettare che sia il client a fare il render per poter utilizzare questo valore altre proprietà interessanti con cui possiamo avere a che fare sono quelle che riguardano la parte di option quindi sono quella parte di wefaith o comunque come la nostra immagine si comporta la prossima lezione sarà proprio dedicata a vedere in azione tutte le diverse tipologie di layout quindi questa la lasciamo per la lezione successiva e andiamo a vedere effettivamente quello che è il play solder che è quell'elemento che troviamo presente nel momento in cui la nostra immagine sta caricando quindi è quell'elemento è il modo in cui noi mostreremo l'utente che la nostra immagine sta caricando come nasconderemo il caricamento dell'immagine se io qua andassi a mettere quello che è il valore di play solder e mettessi quello che è traced svg ad esempio e andassi a salvare la mia immagine adesso però ha un caricamento diverso rispetto a prima come vedete ha questo sistema di caricamento in cui ci mostra un l'immagine tracciata come svg se rallentiamo la connessione magari riusciamo a vedere effettivamente meglio quello che è il pattern di caricamento mettiamo fast 3g mettiamo giù questa gomina e andiamo vedere come carica la nostra immagine va ad avere questa diciamo questa sensazione di bianco inero dell'immagine che in realtà è un svg che va a tracciare i contorni della nostra immagine ci sono diverse modalità quella di default è dominante coloro in cui il colore dominante dell'immagine sarà preso come play solder fino a quando l'immagine non caricherà avremo la dimensione della nostra immagine coperta dal suo colore dominante poi avremo un blue red che è quella versione di sfocato nella nostra immagine ed è svg quello che appunto quello che vi ho appena fatto vedere possiamo controllare il formato della nostra immagine quando è possibile utilizzare auto web insomma scegliere in che formato far render delle nostre immagini ovviamente abbiamo tantissime altre possibilità per andare a lavorare con le nostre immagini vi lascio giocare con questa doc e poter provare effettivamente tutto quello che sono le possibilità che ci sono offerte con le nostre immagini stati come promesso in questa lezione andremo ad esplorare nel dettaglio quello che è l'opzione o proprietà layout diciamo che layout è una delle proprietà più importanti e va a definire come la nostra immagine si comporta rispetto al contenitore che lo contiene ma in generale comunque il suo comportamento il suo ridimensionamento rispetto al client abbiamo tre valori che sono constrained fixed e full uif quello di default e constrained ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che è la loro funzione abbiamo già all'interno della doc una bella gif che ci fa vedere quello che è il funzionamento di questi elementi ma andiamo a implementarli e a notarne le differenti andiamo prima a fare un veloce refactor e a utilizzare un'immagine un po' più piccola come sia 4000x6000 perché avremo un piccolo problema quindi ci andiamo a inserire la nostra immagine che voi troverete comunque già all'interno io ce l'avevo già all'interno anche del progetto ma questo non è così importante andiamo a fare un refactor togliendo cose che non ci servono ok anche questa qua effettivamente non ci serve più e andiamo a sostituire la nostra immagine in modo che sia quella corretta e andiamo a replicare questa struttura tre volte uno e due non avremo qua i mails ma avremo i valori dei layout quindi avremo in questo punto constrained in questo punto avremo fixed e sarà seguito da quello che è full andiamo a implementare i nostri layout quindi layout constrained che è il valore comunque di default fixed e l'ultimo valore è il nostro amico full width andiamo a inserire allineare questa big image intanto modificare anche questo style togliamo questo display flex diamoli una larghezza esplosiva al nostro container ok magari al contrario e diamogli quello che è un margin unset e auto e poi andiamo a definire un bordo di un pixel che sia solid e utilizzi quello che è una variabile si purple 400 perfetto andiamo a salvare ricarichiamo la pagina e andiamoci a spostare effettivamente su quello che è la visione più grande e andiamo a vedere quelle che sono le differenze mettiamoci in condizioni di poter allargare e stringere il nostro schermo e andiamo a vedere quella che è la differenza come possiamo vedere la nostra prop di fixed rimane invariata se magari vedessimo delle dimensioni fisse proprio quindi che ha un half di 300 la nostra immagine effettivamente comunque rimarrebbe sempre fixed non avrebbe nessuna variazione come vedete non va ad adattarsi e l'altezza rimane sempre la stessa vedessimo anche with 200 la nostra immagine comunque non avrebbe mai alcun cambiamento rimarrebbe fedele alla dimensione che siamo andati a dare alla nostra immagine rispetto a quello che è il suo contenitore che appunto il bordo che siamo andati a creare serve a farci vedere come si comporta l'immagine rispetto al suo contenitore mentre constraint che è quello di default cosa fa? va a permettere all'ottima di adattarsi fino a quando non raggiunge la sua dimensione massima oltre la quale andrebbe a strecciarsi per continuare a rimanere nella dimensione alla dimensione attuale del suo contenitore quindi questa immagine mi sembra che sia appunto 600 e qualcosa per 600 una volta superata la sua dimensione ecco l'immagine rimane effettivamente alla sua dimensione non va a strecciarsi mentre full width come potete immaginare va a far sì che la nostra immagine sia sempre della dimensione del suo contenitore quindi se io allargassi e sommassi tantissimo vedete che l'immagine continua a rimanere esattamente alla dimensione del suo contenitore mentre fixed rimane sempre fissato nella sua dimensione e constrain cerca di non far mai perdere qualità la nostra immagine mantenendone quello che è l'aspect ratio fino a quando possibile come detto nell'introduzione che xp si propone non solo come una soluzione di miglioramento delle performance lato client ma effettivamente va a essere una soluzione completa per il frontend quindi abbiamo una parte che è basata su react che ci permetterà di utilizzare tutta la parte di components comunque segmentazione del codice riutilizzabilità del codice che ci offre la libreria di react per appunto quello che riguarda meramente il frontend ma poi abbiamo tutta una parte che ci permette di lavorare meglio con quelli che sono i dati e questo layer di dati è in graphql graphql che cos'è per chi non lo conoscesse è un metodo per andare a fare le richieste e andare a ottimizzare effettivamente le risorse che si richiedono quando si va a fare una richiesta tradotto in parole comprensibili quando uno va appunto a fare una richiesta come in questo caso io comunque quando vado a fare una richiesta rest normalissima ottengo tutti i dati in assoluto che questa API mi offre ma se io avessi bisogno solo unicamente del title come vedete ho altri tre campi di cui effettivamente non me ne faccio proprio niente quindi sto consumando più risorse effettivamente di quelle che io necessito nella mia chiamata ecco graphql interviene per risolvere questo problema per andarci a far fare delle richieste che possono sembrare inizialmente più complicate nell'andarle a comporre ma poi ci permettono di avere in ritorno effettivamente solo i dati di cui abbiamo bisogno e per diciamo raggiungere questo scopo Gatsby ci va a offrire quello che è un comodissimo una comodissima interfaccia grafica se noi andassimo a rebuild quello che effettivamente è la nostra applicazione come possiamo notare ci vengono offerti due link uno per andare a vedere il nostro server di development quindi localhost alla porta 8000 e poi abbiamo questo secondo link io andrò a copiarmi uno può anche fare control click ma preferirei andarlo ad aprire effettivamente sul browser grande ho incollato la radice quadrata e ci viene dato effettivamente questo layer adesso vado a svuotarlo effettivamente dei suoi elementi e quando lo andiamo a ricaricare in questa maniera abbiamo tutta una serie di commenti e questa è l'interfaccia che Gatsby ci va ad offrire di cui parleremo nel dettaglio meglio la prossima lezione andiamo ora ad approfondire quello che è il nostro la nostra interfaccia GraphQL ricordatevi che il pattern proprio di richieste si chiama GraphQL l'interfaccia si chiama GraphQL cosa ci permette di fare questa interfaccia e qual è la sua utilità Gatsby quando poi va a buildare effettivamente durante il build time quello che è l'intero sito poi ci esporrà effettivamente tutti i dati di cui lui ha bisogno perché noi sul nostro frontend abbiamo molto spesso bisogno di andare a mostrare dei dati dinamici che noi non abbiamo direttamente sul client possono essere blog di post una richiesta normalissima di un'inplay insomma tutti questi dati noi con Gatsby possiamo andarli a elaborare lato server diciamo ingestarli come si dice in termine tecnico all'interno di quello che è questo layer di GraphQL quindi semplificando farli apparire in questo layer e poi utilizzarli staticamente in quello che è il nostro frontend andiamo a fare un veloce esempio so che adesso la sintasi sarà strana ma andando poi utilizzarla con frequenza diventerete subito familiare ne capirete comunque quelli che sono i vantaggi ovviamente entrerò nei dettagli sempre di più andiamo a fare una veloce overview e poi nelle prossime lezioni andiamo effettivamente a utilizzarlo in maniera sensata quella che è una classica query in GraphQL possiamo andare a vederla in maniera molto semplice ad esempio in questo modo questa è una query GraphQL a cui noi andiamo a chiedere dei dati nello specifico e ci vengono ritornati esattamente questi dati noi possiamo utilizzare questa sezione chiamata Explorer per andare a comporre le nostre cose semplicemente spuntando delle caselline o premendo comunque delle voci molto molto comodo inizialmente andremo a scriverle manualmente in modo che comunque andiamo effettivamente a capire quello che è la meccanica che c'è dietro e cosa stiamo andando a chiedere che è sicuramente il miglior modo per imparare se io poi vado a rinominare ad esempio questa cosa come Gianni e vado a lanciare la query se apro la finestra di History e poi posso andarmi a recuperare quelle che sono le query che ho fatto precedentemente quindi molto molto comodo il Pratify serve a rimettere in maniera furba le nostre query quindi quando andiamo a completare una query possiamo utilizzare il Pratify per rimetterle a posto se mi dimenticasse qualcosa il Pratify segnerà che ci sarà un errore quindi uno strumento molto molto utile e l'ultima voce che abbiamo è quella di Code Exporter che ci permetterà poi di andare a esportare questi elementi direttamente all'interno del codice della nostra applicazione abbiamo effettivamente diverse opzioni che sono le page query le static query o il create pages abbiamo diverse opzioni che sono le page query le static query e il create pages che differenziano per la loro utilità poi andremo nel dettaglio quando utilizzeremo le singole query la differenza sostanziale che potete che possiamo andare a sottolineare in queste tipologie è che le page query sono quelle che facciamo direttamente nelle nostre pagine e sono molto interessanti perché ci permettono di utilizzare delle variabili al loro interno quindi molto 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 utili mentre le query statiche si utilizzano direttamente all'interno del component mettiamo a caso che io in un componente volessi realizzare la mia navbar utilizzando le query con quello statico perché non cambieranno mai quei dati e allora all'interno di un componente posso andare a utilizzare quella che è una query statica il create pages invece è come andiamo a creare le pagine sul server utilizzando questi dati ma sono tutte informazioni che andremo poi a utilizzare in maniera pratica per chiarirne i concetti e perché effettivamente poi ci servono nell'arco del nostro sviluppo fino a questo momento ci siamo limitati comunque a fare delle query di prova ma andiamo ora effettivamente a vedere come possiamo andare a interagire con quello che è il nostro progetto Gatsby e andare a fare un po' di query un pochino più articolate a vedere come si comportano e che tipo di dati ci situiscono per andare a fare questo andremo a lavorare con quello che è nel nostro file Gatsby config.js Gatsby config.js è un file diciamo in cui si vanno a mettere come potete immaginare degli elementi di configurazione quindi se andassimo sulla doc e andassimo su documentazione della configurazione abbiamo effettivamente questi parametri noi utilizzeremo questo site metadata che ci permetterà di andare a interagire e scrivere dei dati personali che riguardano informazioni generali del nostro sito che ci saranno accessibili all'interno delle query abbiamo altri parametri che al momento comunque non ci interessano e che vedremo successivamente al depur di plugins che comunque come vedete è quello in cui abbiamo installato i nostri plugin ma torniamo effettivamente a noi andiamo a scrivere site metadata scusatemi e ricordiamoci che questo è un nome riservato deve chiamarsi esattamente così altrimenti non funzionerà all'interno di quello che è il nostro ecosistema di Gatsby e all'interno di questo oggetto andiamo a scriverci alcune voci in modo da poter vedere in azione le nostre query per fare questo andrò a copiarle da un altro file in modo che comunque sia più veloce e non mi metta qua a scrivere per un quarto d'ora e possiamo andare avanti voi scriveteci quello che che volete solo per farvi vedere come effettivamente funzioni con diversi tipi di dato quindi abbiamo qua un array di solo string un array di oggetti e degli oggetti innestati quindi per andare a vedere questi tipi di dati che effettivamente sono le più comuni come si comportano all'interno del nostro ecosistema ricordiamoci che quando modifichiamo questi file quindi gatsby config js e altri file che comunque hanno il nome gatsby è sempre bene andare a restartare quello che è il nostro server npm run clean che andiamo a pulire quella che è la cache e npm run develop in modo da poter lanciare di nuovo il nostro server al momento non abbiamo nessun file sulla destra del browser aperto perché non ci serve lavoriamo solo unicamente con le query che ci teniamo su questa scremata un pochino più grossa un pochino più più comoda siamo all'interno del nostro graphql nella nostra interfaccia e andiamo effettivamente a scrivere quella che è la nostra prima query quindi andiamo a scrivere site ok site premendo control e spazio su quello che è il mac avremo il suggerimento sarà control mi sembra su sempre control anche su windows e andiamo a vedere site metadata all'interno che cosa ha avevamo detto che avevamo title seguito da description proviamo a stampare questo vediamo direttore l'introduzione a gatsby la vera sfida è scrivere giusto gatsby si c'è tutto quanto vediamo se c'è anche il nostro auto auto effettivamente non c'è non compare e quindi neanche type sta comparendo ok il type non sta comparendo andiamo a cercare di risolvere questo piccolo problema restartiamo nuovamente il server magari ricarichiamo anche questa pagina e potremmo vedere tutto che è altro era perché non avevo ricaricato questa pagina author quindi poi abbiamo anche type altri suggerimenti abbiamo dammi data e poi abbiamo quello che è other courses come detto abbiamo type e other courses che stanno come si dice in gergo tecnico piangendo ovvero portano quello che è un errore quello che si porta indietro è che in graphql non si possono lasciare campi diciamo non approfonditi quindi type come abbiamo visto è un oggetto comunque innestato io devo dire di type che cosa voglio non posso volere type in generale quindi apro la parentesi prendo suggerimento e vado a metterci categorie a questo punto non è più un errore stessa cosa vale per other courses che al suo interno presenta altri elementi anche in questo caso mettiamo categorie e lui smette diciamo di piangere ci andiamo a prendere anche gli altri elementi quindi qua level e anche qua level e mi sembra che ci sia solo più score credo ok score e ancora una volta score andiamo a fare il playtify per sicurezza non c'è nessun problema funziona tutto quanto nel caso comunque qualcosa fosse rotto quindi avessimo una mancanza una parentesi facendo il playtify diventerà rosso e ci dirà ok manca qualcosa lanciamo la nostra query ed ecco qua tutti i dati che noi abbiamo effettivamente inserito in site metadata quindi abbiamo lo stesso oggetto che ci viene ritornato quindi cosa importante che ci portiamo dietro che dobbiamo ricordarci che in graphql non si possono lasciare gli elementi innestati senza che vengano specificati questo l'abbiamo visto sia nel nostro type che nel nostro other courses perché perché quello che è lo scopo di graphql è proprio quello di indicare con precisione che risorse andare a chiamare prima di chiudere questa lezione andiamo a vedere come possiamo ottenere lo stesso oggetto che abbiamo creato prima utilizzando semplicemente l'explorer e l'explorer che cos'è è un modo molto più furbo di andare a lavorare e creare effettivamente queste query senza scrivere le mani senza daver sapere a memoria cosa cercare uno va qua premio site e poi ha tutti i parametri che effettivamente gli servono dei modi per filtrare e quant'altro che vedremo più avanti site metadata e poi va a mettersi tutti gli elementi quindi out of description the midata title other courses e poi tutti i campi che gli servono e vedete come effettivamente è molto più furbo va a salvare ed ecco che tutto quanto va a funzionare utilizzare le nostre query all'interno del nostro progetto per iniziare a capire quello che è il loro valore e la loro importanza andiamo a vedere l'ultima finestra che abbiamo ancora visto è quella di code exporter magari chiudiamo una finestra che non ci serve come l'explore tool in questo momento e cogliamo l'occasione per andare a spiegare quella che è la differenza tra le nostre query intanto in questa finestra vediamo come possiamo esportare le nostre query per le utilizzate all'interno del nostro progetto notiamo la differenza tra quelle che sono le page query e le static query poi abbiamo altre opzioni che vedremo successivamente e vediamo che esistono delle query di pagina le page query e le static query qual è la differenza? noi utilizzeremo innanzitutto le static query e la differenza sostanziale è che appunto le query che si definiscono statiche sono da utilizzare solo e esclusivamente all'interno dei componenti perché si presume che siano stabili e quindi si utilizzano all'interno di un componente perché non varieranno e rappresenteranno sempre comunque lo stesso tipo di dato mentre quelle che sono definite le page query sono query che accettano al loro interno anche delle variabili che noi poi passeremo appunto in questa sezione ma lo vedremo successivamente e vengono utilizzate proprio all'interno delle pagine perché così come React magari potevamo rappresentare una serie di elementi come esempio gli articoli di un blog utilizzando dei template anche comunque in Gatsby andiamo a rappresentare la stessa cosa abbiamo bisogno comunque andando comunque a fare delle query per rappresentare i nostri dati di poter passare delle variabili e poi effettivamente andare a mostrare il contenuto differente a seconda della pagina su cui ci troviamo ed ecco che entrano in gioco le page query ovviamente una page query non può essere utilizzata all'interno di un file che non rappresenti comunque una pagina andiamo quindi a copiare con questo tasto super comodo la nostra static query andiamo all'interno dei nostri component e definiamo un nuovo component che chiameremo proprio static query dot js a cui andiamo a incollare il nostro componente lo chiamiamo static query e togliamo questa roba qua e lo esportiamo come costante e poi andiamo nel nostro index facciamo il solito exporto tutto quello che si trova all'interno del file static query andiamo a salvare ci spostiamo nel file di contact dove mi sembra che non ci sia nulla a parte una scritta a mozzo ci andiamo a definire un bel tib a cui daremo la classe di class name di spacer e all'interno andremo a posizionare il nostro static query che importiamo dei nostri components andiamo a salvare e ci troviamo di fronte a quello che è questo a questo effettivamente oggetto in json streamify che è esattamente quello che ritorniamo in questo punto e voi direte ma che così cosa me ne faccio di questa robaccia beh noi effettivamente ce ne facciamo tanto perché possiamo andare magari a togliere questa roba qua e andare a posizionare un bel div non dov un bel div mettiamo questa roba che non ci sarebbe più un bel div togliamo questa cosa qua e iniziamo un po' a ragionare con questi dati e andiamo a scrivere un po' di jsex xh4 ad esempio scopri scopri i nostri corsi scopri i nostri corsi e poi andiamo a metterci un bold e diciamo data dot site vedete che andiamo a utilizzare questo book che esportiamo da quello che è l'API di Gatsby all'interno di cui passiamo questo elemento questo book ci serve a trasformare effettivamente i dati e potervi accedere GraphQL va a comunicare che quello che c'è all'interno di queste regolette non è una stringa normale ma rappresenta una chiamata GraphQL al nostro server di Gatsby quindi punto site come vediamo da qua punto site metadata punto title andiamo a salvare e quindi scopri i nostri corsi introduzione a Gatsby questo è il nostro primo incredibile corso e questa è la nostra prima query che siamo andati a realizzare apriveremo un altro div in cui andiamo a metterci la nostra class name di spacer e sotto ci andiamo a posizionare un paragrafo con scritto altri corsi e sotto questo paragrafo ci andiamo a posizionare un altro bellissimo spacer e ci andiamo a mettere una bella anotred list e facciamo data dot site dot site metadata dot other courses dot map perché sappiamo che è un array dalle nostre query sappiamo benissimo che è un array e andiamo a ritornare lì diciamo che la key equivale a course dot bello sempre fatto categorie sede categorie e qua ci passiamo di nuovo andiamo a salvare e abbiamo ottenuto quelli che sono i nostri incredibili corsi ed ecco che abbiamo utilizzato le nostre query per andare a rappresentare dei dati direttamente presi da quello che è il nostro file di gizby config.js e questo è solo uno dei tanti esempi come possiamo andare a interagire con i nostri dati in questa lezione non faremo niente di nuovo ma andremo un po' a dare un ordine a quello che abbiamo scritto e farlo in maniera un pochino più furba almeno così è come io generalmente vado a utilizzarlo vado a separare innanzitutto quello che è questo layer di informazioni andando a definire al fondo di quello che è il nostro file const query uguale questa cosettina qua togliamo questa parentesi e vado a posizionare questo elemento qua in fondo e poi a questo nostro hook vado a passare quella che è la nostra query ecco che la situazione diventa un pochino più chiara all'interno del componente non è un delirio di stringhe ma abbiamo questo elemento che comunque non ci servirà mai più toccare in fondo al file e poi sopra manteniamo ordinatamente quello che è il nostro componente mi raccomando essendo questo un hook dobbiamo utilizzarlo assolutamente o in quello che è un componente con la S maiuscola o in quello che è un custom hook se no questo elemento funzionerà perché ricordiamoci che React va a utilizzare queste parole chiave quindi use oppure l'inizio di una maiuscola per andare a individuare che quello è proprio un component e che gli hook che stiamo utilizzando possono essere utilizzati solo all'interno di un component o di un altro custom hook oppure di hook altro modo per ordinare qualcosa è quello di andare a destrutturare effettivamente già in questa posizione quello che è effettivamente il nostro dato possiamo anche farlo sotto potessimo essere più ordinati ancora e dire che effettivamente sappiamo che questi elementi esistono che non ci sarà alcun errore quindi andiamo a dire che da data estraiamo quello che è site che al suo interno avrà site metadata che al suo interno ancora una volta avrà quello che è il valore di title e other courses e qua andiamo a togliere questo manicone da qua sotto teniamo solo title e other courses ed ecco che tutto diventa un pelo più ordinato ovviamente non è cambiato assolutamente nulla nel nostro component ma è tutto un pelo più ordinato e funziona tutto un pelo mail anche all'occhio di chi comunque legge il codice che è sempre molto importante nel presente che non lo scriviamo mai il codice per noi stessi ma lo scriviamo anche per gli altri e che poi passeranno nelle persone a fare la review del nostro codice quindi se il codice è ordinato fate un favore a chi vi andrà a fare la review andiamo ora a vedere altre proprietà di quelle che sono le nostre query possiamo andare a rinominare effettivamente le nostre query dando i nomi che sono per noi più comodi in questo caso ci basterà andare all'interno di quello che è la nostra query che siamo venuti a fare e mettere i due punti e prima inserire il nuovo nome che vogliamo dare andremo info andiamo a salvare come vedete acquisisce proprio il valore di info quindi all'interno del nostro file andiamo a definire info qua cosa di nome vale info ma la sono appena inventato andiamo a salvare e otterremo quello che è un errore questo perché perché anche appunto in questo punto dobbiamo andare a definire quello che è il valore di info salvando avremo di nuovo il nostro codice funzionante un'altra cosa molto importante è che noi possiamo andare a nominare le nostre query come vedete noi qua abbiamo questo my query e poi un nome in questa maniera questo perché perché in questo momento non c'è necessario possiamo anche comunque come in questo caso andarlo utilizzare senza nessuna nomenclatura ma quando andremo ad avere delle query più complesse o comunque andremo a lavorare con TypeScript questo diventa fondamentale perché ci permetterà di creare automaticamente i nostri types a seconda delle query che andremo a fare quindi andiamo ad aggiungere in questa posizione quello che è il valore di query e la chiamiamo my first query andiamo a salvare e come vedete non cambia niente tutto quanto continua a funzionare tranne il fatto che abbiamo questo errore ma è cedato perché abbiamo rinominato la query in questo momento e lui non riesce a trovarla all'interno della cache semplicemente andando a fare npm run clean il famoso comando magico e poi lanciando un nuovo npm run tebelo avremo risolto totalmente il nostro problema andiamo a refreshare e ora abbiamo tutto di nuovo funzionante possiamo anche andare a fare più query contemporaneamente in un'unica query basta sbagliare se io qua comunque andassi a inserire al fondo di questo site anche vediamo questo elemento che in questo momento non ci serve ripremo l'explorer e andiamo a dire che vogliamo anche avere all site nodes a caso vai di chi se ne frega andiamo a salvare come vedete abbiamo un'altra query totalmente differente che viene utilizzata quindi andiamo a prendere questa roba qua e ce la buttiamo nel nostro file quindi nel fondo di site andiamo a inserirla qua sotto e tutto comunque funziona al di fuori di info avremo anche al di fuori di site scusatemi avremo qua anche all site data che lo facciamo così solo all site solo all site e volendo possiamo andare a mostrare i dati una cosa molto importante da andare a ricordare di questo valore fondamentale che deve essere uniboco possiamo utilizzare questo nome solo una volta se io qua andassi ad estrapolare questo elemento definissi un nuovo componente che andiamo a posizionare magari all'interno di questi components test dot ok questa è ancora riservata prova 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 punto js andassi a fare rfc comprova e vado a fare const query uguale graph quel aperto template literal string all'interno da posizionare la mia nuova query la wrap all'interno di altre parentesi quale se andassi a rinominare grazie scusatemi andassi a rinominare anche questa come query my my first query e andassi comunque a salvare andando a rilanciare la nostra query facendo const data uguale plus static query e li passassi query andiamo a salvare come vedete vado ad ottenere quello che è un errore perché mi dice che devo andare ad avere solo e unicamente un valore di my first query questo lo chiamassi my first andassi a salvare come vedete tutto funziona benissimo ok questo è molto molto importante da ricordare deve essere univoco questo nome che andiamo a dare page query spostiamoci chiediamo tutti i file che adesso non ci servono tranne questo shop home da cui copieremo quella che effettivamente è la nostra query andiamo a copiarci anche questa parentesina qua copiamo e ci spostiamo all'interno di quella che è la pagina di shop nella home quindi in shop home in cui anche qua non c'è niente teniamo qua la nostra console che ci servirà in questa lezione e andiamo a salvarci qua data graphquery della nostra query andiamo a salvare qua questa nostra query e andiamo a lavorare con le nostre query prima di fare questo però andiamo a vedere una cosa molto interessante ogni volta che andiamo a definire una nuova pagina nel nostro in gatsby questa verrà creata con un insieme di props che andando a console logare possiamo andare a vedere che sono esattamente queste props qua quindi abbiamo location che si porta dietro il solito object di location abbiamo un habit che è una funzione appunto per andare a spostarsi da una pagina all'altra in maniera manuale page context che è un elemento molto interessante che ci serve per passare alcune informazioni tra le pagine quando andiamo a crearle dal set per page resources in cui abbiamo alcune informazioni che ci possono tornare utili e page contiene delle informazioni che riguardano gli hash o comunque tutto ciò che riguarda il build time della nostra pagina il componente che viene utilizzato che cosa ce ne facciamo effettivamente di questi dati andiamolo a scoprire aggiungendo la parola export all'interno della nostra query andiamo a salvare vediamo che è comparso un nuovo parametro il parametro di data che conterrà al suo interno tutto quello che è la nostra query quindi Gatsby quando diciamo durante il build time va a dietro le quinte rendersi conto di quello che sta accadendo in questo punto e va a fornire le informazioni che noi stiamo andando ad esportare dal nostro file come props sotto il valore di data cambiassimo il nome in query e andassimo a salvare possiamo vedere che lui comunque va a mantenerle sotto il valore di data quindi noi ci terremo qua data per essere più conformi a quella che è la norma la convenzione più che la norma e poi andiamo a lavorare effettivamente ce ne andiamo conto che è un oggetto non ce ne frega nulla andiamo a destrutturare e andiamo a mettere data all'interno e poi come abbiamo fatto altre volte andiamo a dire che const title uguale data dot site dot site meta data dot title e lanciamo qua a mozzo quello che è il nostro title mettiamo uno spacer magari e ci mettiamo qua il nostro title andiamo a salvare e come vedete otteniamo un bel errore come piace effettivamente a noi questo perché perché site meta data non si chiama più site meta data ma si chiama info perché l'abbiamo denominato prima voilà ecco qua la nostra incredibile titolo voilà ecco qua il nostro incredibile titolo che abbiamo preso dalle nostre magiche query prima di abbandonarci andiamo a fare una cosa che non c'entra nulla visto che abbiamo fatto già mille volte in pm run clean in pm run develop andiamo a crearci uno script che faccia esattamente questo che chiameremo restart a cui daremo backup clean voilà andiamo a salvare andiamo a salvare terminale per provarlo andiamo a chiudere e facciamo e come vedete facciamo un clean e poi rilanciamo il develop questo è solo per essere un pochino più veloce più smart nell'esecuzione di questa serie di comandi che vedremo tante volte perché che comunque si bagga diverse volte durante il nostro corso andiamo ora a fare in modo di poter accedere a tutti i file in maniera dinamica all'interno del nostro progetto Gatsby utilizzando però quello che è la nostra interfaccia GraphQL quindi poter fare delle query che vadano a prendere effettivamente gli elementi che sono all'interno ad esempio di questa nostra folder di Magis lanciamo il nostro server e come possiamo andare a fare un nuovo plugin in realtà lo abbiamo già installato quando abbiamo dovuto andare a installare il plugin per le immagini ed era questo file system e ora dobbiamo andare a utilizzare l'interno di Gatsby Config e configurarlo per fare in modo che effettivamente funzioni andiamo su quella che è la doc di Gatsby andiamo a cercarci anzi mi sembra che sia in open source plugin ed è il plugin praticamente basilare di Gatsby quello che ci permette appunto di fare di andare ad accedere a tutti i file che sono presenti nei path che andiamo a specificare qua abbiamo tutta la serie di opzioni che possiamo andare effettivamente a passare poi ci dà un esempio di come andarli poi a utilizzare all'interno delle nostre query quindi andiamo semplicemente a copiare dalla doc questa questo oggetto ce ne andiamo nel nostro codice e nei plugin sotto andiamo a ritornare il nostro ops il nostro nuovo plugin nell'array di plugin di passione invece che pages li andiamo a passare images anzi assets assets slash images prima di passare alla nostra interfaccia GraphQL andiamo un po' a dire due parole su quello che abbiamo fatto abbiamo all'interno di questo al nostro array di plugin un oggetto di configurazione per il plugin di file system perché si può appunto andare a configurare in maniera personalizzata ogni plugin ci sono due modi di passarlo il primo è proprio quello di mera stringa in cui abbiamo solo una stringa che andrà quindi a comunicare di utilizzare le configurazioni di default altri invece necessitano di essere configurati come plugin di file system perché abbiamo bisogno di dirgli appunto a quali file vogliamo andare ad accedere la prima option che vediamo è names e va a definire il nome che andremo a dare alla nostra istanza quindi diamoni magari images a quella che è la nostra istanza andiamo a salvare dobbiamo di nuovo chiudere perché sono un matto che si dimentica di continuamente chiudere e in questo modo stiamo comunicando a Gatsby che vogliamo poter fare le query e accedere attraverso proprio le nostre query tutti i file che si trovano all'interno di questa folder di images ovviamente posso andare ad avere più configurazioni di questo tipo quindi magari qua passare invece che asset images andare a passare quella che è la source folder e components e accedere a tutti i file che sono all'interno di questa sezione ed è qua che è molto interessante andare a utilizzare questa props name perché ci servirà poi quando andremo a vedere come filtrare nelle nostre query per andare a individuare solo quali subset di dati vogliamo accedere mettiamo a caso che ci interessa lavorare con le immagini allora andremo a dire che da tutte le immagini che vogliamo ottenere queste devono avere in quel filtro specifico questo nome ok questa cosa praticamente però non ci serve era solo ad esempio andiamo nella nostra interfaccia GraphQL andiamo ora a lavorare con quelle che sono le nostre query guardando un po' l'explorer ci accorgiamo che abbiamo questa distinzione tra all 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 davanti a tutti questi nomi quindi site plugin site page all file e poi abbiamo i singoli file la differenza è che poi possiamo andare a filtrare in maniera differente a seconda del tipo di dato come potete immaginare all rappresenterà tutti quelli che sono dei file e file ci permetterà di selezionare un singolo file come possiamo vedere troviamo quelli che sono degli argomenti gli argomenti delle query che ci permettono di andare proprio a filtrare e a interagire con quelle che sono le nostre query e gli elementi che possiamo andare a prendere con le nostre query e si distinguono per il semplice colore diverso che hanno dopodiché abbiamo una serie di parametri tra cui questi edges group e nodes diciamo che group serve a raggruppare i nostri elementi per un certo tipo di field mentre nodes ed edges sono la stessa cosa la versione precedente prevedeva solo edges e quindi è stata mantenuta per non distruggere tutte le altre versioni di katsby che supportano edges mentre nodes è la diciamo la versione nuova di questo in poche parole dentro edges poi dopo si accederà a node e si otterranno i singoli elementi mentre da nodes si otterranno direttamente subito i singoli elementi è un livello in meno ma che cos'è un nodes beh se vi ricordate quando siamo andati a lavorare con i nostri dummy data anzi scusatemi con il nostro other cursus ecco che questo è un node quindi un elemento complesso con una serie di proprietà all'interno di un array quindi nodes è un array di elementi e qui abbiamo tutti i parametri di cui possiamo accedere stiamo accedendo attenzione a quelli che sono i nostri le nostre immagini quindi se andassi qua a dire name e sites ok vedete che andiamo a ottenere quelle che sono constraine le big image che sono effettivamente i nomi delle nostre immagini che abbiamo effettivamente inserito quindi stiamo ottenendo le nostre immagini volessimo andare a interagire con i nostri parametri quindi andare a filtrare possiamo andare magari a filtrare per uno di questi parametri quindi dire che ad esempio il relative path sia uguale a quello che è il nome più big image cos'è? jpeg jpeg e come vedete otteniamo solo più la nostra big image quindi questo ci permette di andare a filtrare un po' il metodo filter di un array di maniera molto molto sbagliata e molto semplice limit va a dire al massimo quanti elementi vogliamo quindi se ho posizionato come vedete otterrò solo un elemento se invece utilizzassi skip vado a ottenere vado a schippare il primo elemento quindi vado a ottenere giustamente solo big image che è il secondo con limit invece vado a limitarmi al primo sort può servire semplicemente per andare a riordinare quelli che sono i nostri elementi quindi in questo caso sono ordinati per dimensioni anzi per nome in questo momento credo no forse per sites andiamo appunto a ordinare in maniera decrescente fields e abbiamo tutta una serie di parametri e utilizzeremo semplicemente quello che è sites ok e come vedete abbiamo invertito l'ordine quindi dalla più grande alla più piccola a livello di dimensioni andiamo ora a lavorare con il file la differenza principale è che quando lavoriamo con all file possiamo ottenere comunque dei valori senza passare nessun argomento alle nostre query mentre quando lavoriamo con i singoli elementi quindi file quando dobbiamo ritornarne solo uno il nostro parametro è praticamente obbligatorio quindi in questa cosa andremo a dire che relative path è uguale a bigimage a bigimage punto jpeg andiamo a salvare solo dopo aver messo di nuovo name facciamo così facciamo prima name e sites ed ecco che otteniamo solo la nostra immagine quindi la differenza sostanziale è questa che è di obbligatorio andare a passare a un parametro per andare a filtrare e individuare il file di cui noi abbiamo bisogno le nostre query possono tranquillamente ritornare null avere comunque questo elemento sbagliato non andrà a causare un errore ultimo elemento di cui andremo a parlare in questo momento sono questi identificatori di uguaglianza in cui ec vuol dire esattamente uguali globe sinceramente non me lo ricordo in vuol dire che è contenuto all'interno ne vuol dire che in nessun modo quindi non è presente all'interno e in intere che non è compreso questo valore regex si va a scrivere una regex ok questi sono quindi identificatori di uguaglianza che andiamo a utilizzare per definire come questo elemento debba match rispetto al nome che andiamo a passare effettivamente che cosa ce ne facciamo di andare a fecciare delle immagini con le query in questa maniera se ben vi ricordate quando abbiamo parlato delle immagini avevamo notato la differenza tra le immagini statiche e le immagini dinamiche ovvero le statiche image e le gatsby image ecco che le gatsby image entrano in gioco proprio con la necessità di andare a fecciare queste immagini in questo caso sono all'interno del nostro progetto quindi non inserite quindi possiamo utilizzare tranquillamente le immagini statiche ma è molto probabile che avremo delle immagini che magari saranno su un cms che può essere wordpress che può essere contentful o quello che più vi pare e vi piace e abbiamo bisogno di andare a fecciare queste immagini e quindi quando queste immagini non sono non hanno appunto un path statico come le statiche image è necessario andare a utilizzare le gatsby image quindi andiamo a vedere proprio questa proprietà andiamo magari a mettere a posto quella che è la nostra query e andiamo all'interno di questa voce child image sharp e andiamo a vedere il parametro gatsby image data come vedete va a creare quella che è effettivamente una serie di parametri al suo interno che vanno a definire tutte quelle props che andiamo a inserire manualmente all'interno della nostra static image component quindi abbiamo il layout il background color e poi abbiamo tutta questa serie di immagini che contengono al loro interno le dimensioni e effettivamente una serie di immagini da andare a utilizzare con differenti dimensioni in modo da avere un render il più veloce possibile e poi un elemento di fallback come vedete qua abbiamo tutti quegli elementi che passavamo manualmente scusatemi alle nostre static image quindi il modo in cui andiamo a creare il placeholder e poi abbiamo anche quello che è il layout con fixed full width e constrained ok questa è effettivamente l'utilizzo di una gatsby image vedete come la fallback è cambiata una volta che siamo andati ad andare a definire che tipo di placeholder volevamo andare a utilizzare perché di default vi ricordo che è dominant color quindi andiamo all'interno del nostro progetto e facendo in modo di utilizzare questa query code exporter andiamo all'interno dei nostri components e ci creiamo due bei componenti il primo sarà meramente un image box quindi sarà un elemento di puro stile dovremo image box dot non chieste scusatemi js dove andremo a importare importare import styled from styled components e andremo a definire questo nostro componente quindi export non so più scrive oggi const image box styled dot div ripassiamo un oggetto e ripassiamo una prof prof ps width prof 80 vv eccola radius e andiamo a passare 16 pixel margin 17 auto border pixel solid e poi var purple 400 come ultima cosa overflow idem e poi il secondo elemento che andiamo a definire è proprio quello con la nostra static query che andremo a chiamare dynamic image dot js e come prima cosa andiamo a fare rfca successivamente andiamo a definire const queri come abbiamo imparato che sarà graphql template literal string e la nostra query in graphql dopodiché andremo a dire che const data sarà uguale a use static query a cui passeremo quello che è il valore di query a questo punto avremo la nostra immagine andremo a inserire qua un bel class name di spacer e al posto di questa scritta dynamic image andiamo a posizionare il nostro image box image box che avrà al suo interno una bella gatsby image da andare a inserire dalla doc possiamo andare a vedere che questa che questa immagine effettivamente e dalla doc possiamo andare a vedere che questo component accetta praticamente le stesse props che erano presenti all'interno della static image e ha come required invece che il parametro servers come le static image ha il valore di image a cui bisogna passare quella che è la nostra immagine quindi data dot file top questo non è impossibile da scrivere giusto dot dot questo che è possibile ma andiamo a copiare lo stesso e anche required è quello che il valore di alt quindi andiamo a passare magari data dot file dot name andiamo a salvare magari lo esportiamo dei nostri component quindi faremo export from dynamic image lo salviamo di nuovo nella home page secondo me dovrebbe non esserci quasi niente ok se ci sono solo cose a caso togliamo questa roba effettivamente inutile e andiamo a inserire magari qua uno spacer e andiamo a ritornare la nostra bellissima dynamic image andiamo a salvare ci spostiamo magari all'interno di questo file questa è la nostra immagine gigantesca che viene blurrata magari possiamo tranquillamente andare a metterci così ok e questa è la nostra immagine che viene mostrata con la nostra query niente di difficile tutto esattamente come prima molto interessante andare a vedere tra le altre props che possiamo andare a passare alle nostre query questo non volevo portarlo qua assolutamente possiamo andare a passare abbiamo anche questa transform option che ci permette di andare a definire se magari la nostra immagine diventa in bianco e nero quindi possiamo andare a interagire con anche la nostra immagine fino a questo livello quindi andassimo all'interno della nostra dynamic image andiamo qua ad aggiungere quello che è questo parametro salviamo e la nostra immagine da adesso sarà anche in bianco e nero molto molto interessante questa è sicuramente la scrittura più comoda nel mondo da andare a definire e per questo Gatsby ci viene in aiuto abbiamo un helper che si chiama get email che ci permette di andare ad accedere direttamente a quello che è questo valore semplicemente andandoli a passare quello che è fino al valore di file in che modo ci basterà andare a dire che consta sotto data che consta image sarà uguale a react dot use minimo questo non c'entra niente con Gatsby è solo per fare le cose come effettivamente vanno fatte e li passiamo alla fine e andiamo a dire che questo hook va a ritornare quello che è il valore di get image con data dot file e passiamo a data dot file come array di dependencies e andiamo a salvare questo è molto interessante perché get image andrà a ritornare quella che è la nostra immagine oppure undefined nel caso comunque la nostra immagine fosse sbagliata non andremo ad avere nessun problema quindi quello che è da fare è andare a controllare che image esista quindi image nel caso di stessa allora andiamo a mostrare la nostra Gatsby image a cui passiamo il valore di image altrimenti andiamo a fare un render di niente in questo modo siamo sempre sicuri che la nostra immagine esista qualora avessimo sbagliato qualcosa non abbiamo l'errore anzi per farlo magari effettivamente proprio proprio giusto direi che è il caso di fare esattamente così di portarlo sotto e di portare sopra questi due signori e magari mettere nulla andiamo a salvare in questo modo proprio non mostriamo l'immagine qualora stessimo sbagliando quindi se salvassi in questa maniera l'immagine non esiste e noi non ci troviamo con un errore questa è una pratica molto molto interessante che vi consiglio sempre di andare a utilizzare grazie grazie grazie